Mamma mia, mai dal morto mi raccomando signor G, mai dal morto Trasmetti dal morto Non è, non è, non è ottimo Tecnicamente dovremmo essere partiti Per scherzo nel gioco Però la cosa bella è che non lo so ancora Vabbè, magari qualcuno ci sta guardando in questo momento Non ci dobbiamo sentire osservati Qualcuno ci sta guardando perché siamo partiti ufficialmente ragazzi Buongiorno Io vedo un signor Gigi in live Quindi mi sa che è proprio lei Sì, sono io, mi sa che sono io E lei è il signor Ferre, giusto? Io confermo di essere il signor Ferre Posso dire che questa non è una fake news ragazzi Ok, a posto, a posto Ragazzi, oggi siamo qui col signor Ferre E partiamo con il day one della Brawl Stars Championship World Finals Cioè non le classiche qualificazioni mensili Che per carità ci hanno regalato emozioni Erano forse anche più importanti di questa finale Perché comunque bisognava qualificarsi E questa finale e quelle lì erano appunto Le giornate giuste per fare punti e qualificarsi Però oggi si scontreranno i team che nel 2020 hanno portato a casa i migliori punteggi Sia europei che asiatici che americani Sia ovviamente l'America Latina che l'America, diciamo, del Nord, del Nord America E abbiamo anche la Cina Giusto? Abbiamo anche la Cina quest'oggi ragazzi Oh yes Infatti vedevo che qua ci sono Insomma, otto team Non da poco Li volevamo presentare? Li volevamo presentare? Io direi Anche se penso che ormai li conosciamo già tutti benissimo Allora, spero che tutti qui li conoscano benissimo Perché ci abbiamo passato tutto il 2020 con le live Erano più o meno sempre loro i team qualificati C'è qualche, diciamo, qualche Sorpresina Sorpresina di lusso C'è qualche team che non si è qualificato Che magari avrebbe potuto fare tanta roba anche qui alle World Final Però diciamo che abbiamo tre team europei Che sono fondamentalmente gli SK Gaming Code Magic e i Clash Che hanno fatto un po' un rebrand totale con il Milan Quindi l'AC Milan Clash AC Milan Clash Ok Tra l'altro voglio fare una piccola domandina Allora so che ovviamente qui tra tutti i team Chiaramente il team che viene più tifato saranno i Clash Perché anche se comunque è un roster totalmente spagnolo Diciamo che un po' di Italia c'è Diciamo che è l'organizzazione italiana Gli interisti C'è il Milan adesso ha ancora maggior ragione Eh, però adesso, no? Gli interisti Ho capito, avevo già capito Dove andare a parlare Alessi Orgici Ho già capito Prego, prego Mi risca pure Quando ho visto i sorteggi Ho visto il Milan Dico no, questa cosa la devo chiedere in live I Milanisti Cioè gli interisti O comunque Tutti quelli che un po' odiano il Milan Sai magari anche gli Jumentini O altre squadre eccetera Come Perché si può odiare il Milan No, non lo so Io no, io non odio nessuno A me piace guardare il calcio Sono appassionato delle squadre Me le guardo e me le godo Però Sai, no? Nel calcio c'è sempre un po' Quell'odio Quel Quel risentimento Come l'avete presa? Guarda, guarda Guarda, vedo dei commenti Signor Gigi Vedo qualcuno che dice Ma io tifo comunque Clash Oh bravo Questa, oh questa Ma infatti la risposta Che mi volevo sentire dire Era Tifo comunque Clash Però volevo sapere un po' Come l'avete presa Comunque ragazzi Però c'è Rossella E' già ad esempio Che coglie la palla al balzo Per darci un saluto E dirci Comunque forza Inter Nel dubbio Nel dubbio Rossella Va bene, ci sta Sono le fedi, no? Le fedi Ci sta, ci sta Comunque ragazzi Diciamo a parte gli scherzi Che dovete lasciare like Mi raccomando ragazzoli Se non mi lasciate like Nelle World Finals Cioè di che stiamo parlando Ovviamente Il link in descrizione Il signor Ferre È sempre presente Ma ovviamente Io vi rilancio L'appuntamento Anche a domani Perché oggi andremo a vedere Tutti i quarti di finale Quindi oggi ragazzi Grosso appuntamento Perché vedremo tutti i team giocare Domani Sul canale del Buongrax Tra l'altro È partita con l'intro E tutto quanto Sul canale del Buongrax Ragazzi Domattina Dalle 10 Saremo appunto in live Per le semifinali E la finalissima ragazzi Quindi Non potete mancare Neanche domani Comunque Dato che siamo preparatissimi E li sappiamo a memoria I tre team europei Sono appunto SK Gaming Clash Milan Clash Chiamiamolo come volete Oggi lo chiameremo Quasi sempre Clash Perché dobbiamo ancora Abituarci nell'ottica E i Code Magic Quindi tre team europei Due team asiatici Che sono stati Il PSG Tra l'altro Potremmo vedere Un Milan PSG Non ci avevo pensato A sta cosa Sarebbe molto divertente Non oggi Però in caso Magari anche in Brawl Ball Magari anche in Brawl Ball Sarebbe spettacolare Sarebbe spettacolare Poi abbiamo I Nova Cina Quindi praticamente È il team cinese Che sono i Nova fondamentalmente Agli Jupiter Comunque Era un altro team Asiatico Per quanto riguarda Tutta la sezione americana Abbiamo gli Inns Che c'è il nostro carissimo amico Consti italiano E ovviamente Volevo dire gli Omen Ma non ci sono gli Omen Perché evidentemente Il roster è stato comprato Dai Tribe Che si chiameranno E infatti Vorrei dare subito Un GG ragazzi Al buon GG Che è un cacchio di scanner E si accorge subito Di queste cose E in un attimo Si è subito accorto Mancano gli Omen Bon spariti E li hanno comprati Ha fatto tutto un giro Se ne è accorto subito ragazzi Sì perché Perché Io stavo vedendo i giri No Ho visto i Tribe Dico no aspetta I Tribe Non si erano qualificati Aspettate un attimo E mancavano gli Omen Tra l'altro Signor Ferro Io non so se lei Se lo ricorda Ma durante Le qualificazioni americane Che cosa dicevo sempre Degli Omen Che era l'unico team americano Che non cambiava logo Che non cambiava nome Che non cambiava logo Sì che erano rimasti immacolati Sempre loro Gli Omen E poi alle finali Tribe Red Non so perché Non so che cosa sia successo Se i Tribe Hanno comprato Dagli Omen In roster Per poi partecipare alle finali Se era scaduto il contratto E non hanno voluto rinnovare Non lo sapremo mai Probabilmente ragazzi Ma sappiamo che la prima partita Sarà PSG Nova Cina ragazzi Nella chat c'è solamente una domanda Fondamentalmente Ma la spilla Chiedo Ma la spilla Ma la spilla Ma la spilla Ragazzi Stanno rilasciando ancora tuttora La spilla speciale Per le world final In game Lei Signor Gigi L'ha ricevuta già? Io sì L'avevo ricevuta Quella Tu dici Quella per aver shoppato le offerte Quella col cuocino Sì Ma l'ha ricevuta Anche chi non ha shoppato Mi sa È proprio un'offerta Per Per aver raggiunto Il price Magari vi smettiranno Sì comunque sì L'ho ricevuta Diciamo Che andremo a spoilerare Video di domani Sarà proprio su quello ragazzi Così giusto Ah attenzione Giusto per spoilerarvi un attimino Comunque Allora sai che io Dai Dai sorteggi Sono rimasto un po' deluso Sono rimasto un po' deluso Perché vedremo immediatamente Due team Che si sono scontrati Per tutto l'anno Vederli subito scontrarsi Ovvero SK Gaming E Code Magic Un po' mi dispiace sinceramente Ma Signor Gigi Bisogna vedere Perché la finale Ha comunque la tensione Quindi è possibile Che tutto venga ribaltato Sicuramente Ho peccato Il fatto che Non stiano Direttamente In studio E quindi non ci sia Proprio la tensione Classica Di una World Final E Tra l'altro Guarda lì Con le magliette Sì sì Proprio del Milan Praticamente Ah hai capito Madonna Quanto mi fa strano Vedere questi Non degli Omen Ragazzi C'è uno del primo Peso il muro Oltretutto Tipo mastodontico No vabbè Lo studio Sempre c'è Sappiamo Le grafiche Le organizzazioni Di Supercell Non si battono Tra l'altro Non so se hai visto Che a destra Hanno messo Anzi no a destra Beh al contrario Hanno messo Tipo il caricatore Della Super Per farci vedere Come e quando Tipo cambiano Le schermate Le cose Ma lol Ma che roba Non l'avevo visto Signor Gigi Tanta roba Tanta tanta roba Ma che roba Ma sono proprio Signori Oggi sì Ma sono proprio Sono proprio Degli artigiani Sono proprio Degli artigiani Questi cari Supercell Ma diciamo Che saremmo Ancora di più Dei signori Se qui iniziassero A lasciare Ancora un po' Più di mi piace Ragazzi siamo Più di 2600 Così boom Di mattina Alle 10 Ma siamo ancora Sotto i 1200 like Questa cosa Non va bene Fatevelo dire Raga Questa cosa Non va bene Io qua leggo 2600 In realtà Signor Gigi Addirittura Ok Ne legge ancora Di più Signor Ferre Quindi Voglio dire Beh Io direi Che si può Tranquillamente Fare di più Possiamo fare di più Ci sto avvicinando Anche a Natale Abbiamo un commento Dei ragazzi del PSG Oltretutto E dei Nuova China Sì Che saranno la prima partita Che aprirà Inaugurerà Queste World Finals Io sono davvero curioso Di vedere A che livello Sono arrivati i cinesi E sono contento Di vederli subito Contro un team Che può puntare Alla vittoria Come i PSG Per vedere Effettivamente No Sono sicuramente Sarà sicuramente Molto Molto Difficile Per loro Sarà sicuramente Uno scontro Difficilissimo Subito Così in apertura E Ovviamente Mi riferisco A Nova China Vediamo effettivamente Cosa riescono A combinare Signor Gigi Sventola Il fulare Il carissimo Sì 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 PSG Ovviamente Penso che anche Lo studio A livello di pubblico Sia vuoto Purtroppo Ragazzi Ma noi Auschiamo Per un prossimo anno Ma guarda che si è schermato In 3D Eh beh Eh beh No ma Non è Non è Io Signor Gigi Ormai Guarda Guarda anche loro Bellissimo Bellissimo Quasi Quasi Non ci stanno facendo Mancare il fatto Che non sono lì a studio Sarebbe stata Un'altra cosa Assolutamente Assolutamente Infatti Dicevo Auspichiamo Per un prossimo anno In cui Si potrà Avere uno scontro Ma addirittura Sono così prudenti In Nova China Che hanno Pressione la mascherina A casa loro Esatto Esatto Comunque I band Mi sa che sono rimasti singoli Guarda che è particolare Sì Perché io so Che tutte le nuove competizioni Stanno aumentando I band A 4 Addirittura a 6 Perché ormai Con 41 brawler 40 Ok Perché Non c'è Con solo due band Generali Oggi ci divertiamo E non so se hai visto Hanno bannato Colette E Maxine Tra l'altro I due brawler Che nel video Signor Gigi Lo sappiamo L'avevamo detto Ma anche Colette Si parte al Super Stadium Sì ma Tra l'altro Volevo dire Hanno bannato I due brawler Che avevamo detto Io e lei Che dopo l'ultimo bilanciamento Potevano fare la differenza Se se lo ricorda Sul suo video Sì 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 E sono quelli Che avevamo scelto io e lei Vero mi ricordo Abbiamo fatto Abbiamo fatto il video insieme Ma Questa è esperienza È proprio una faina Eh guardi No Colette Alla fine È diventata Molto forte È entrata molto in meta Sì Ma Max Come avevi detto tu È forte Non tanto Perché sia veramente Così sdravato Come brawler Ma perché Non trova Un vero e proprio counter All'interno del gioco In questo momento Non c'è un vero counter Intanto abbiamo Hanno iniziato Ovviamente Non è bannato Poche E se ne approfittano Immediatamente Innova China Che attenzione Non mi dire Che se Non ci credo Non ci credo Così 15 secondi E il team E fa subito il gol Il team Che doveva perdere Contro tutti quest'oggi Inizia dopo neanche 15 secondi A buttarla dentro E ci ha messo un Frank Giusto per la cronaca Sì sì Così Giusto per Non è che ci ha messo Una roba Ci ha messo un Frank Però è giusto Perché Comunque sia Il mid dei PSG È un bel gin E Frank è sicuramente Una buona scelta Contro un gin Quindi non è Non sono così In svantaggio Ecco No Infatti per quanto riguarda La scelta delle comp Devo dire che Quella Della Cina Potrebbe Counterare Questa qui Del Paris Saint Germain Però devo dire Che dopo il primo gol Subito Il Paris Saint Germain Sta iniziando Un attimino Un attimino a carburare Sta un attimino Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Sicunque mi sa che sta un po' indietro Con la live Il signor Ferre E Mi sa ragazzi Che appena si apre un pochettino La mappa Se riescono ad aprirla un po' Il Paris Saint Germain Potrebbe tranquillamente Ribaltare la situazione Ragazzi E lo fa E lo fa E lo fa Tra l'altro ragazzi Siamo più di 11.000 Oh yeah Siamo più di 11.000 Siamo più di 11.000 E siamo ancora a 2.600 like Quindi ragazzi Mi raccomando Mettete subito Sto bel mi piace Bella per Gabri Un bacio Una grazia 2.600 260 like Signor G G voleva dire 260 like E siamo più di 11.000 Ragazzi Mi raccomando Comunque Allora Giusto così I Nova China Volevano Esordire con un gol Dopo 15 secondi Purtroppo Non hanno resistito Al contrattacco Del Paris Saint Germain Che secondo me Dopo il primo gol Quella Sudatina Forse già Quella gocciolina Ha iniziato un pochettino A scendere Non lo so Però si sono un attimino Svegliati E hanno fatto il doppio gol Tra l'altro sappiamo Quanto Siano forti I Paris Saint Germain In football Ma io notavo una cosa Signor Gigi Adesso È una cosa molto tecnica Quello dietro i player Non è un green screen È proprio un cartonato Gigantesco Con i loghi di Brawl Stars È una parete Piene di loghi di Brawl Stars Noi pensavo fosse Tutto un effetto Green screen Guardate Guardate anche Che belli Gli ologrammi In studio Ragazzi Il punteggio è fatto Con telegrammi Ma che figata Ok Altro team Signor Gigi Qua abbiamo un bel Brockmidd A parte dei Nova Sì Contro una B Dei PSG E poi abbiamo Questo Carl Spike Sulle lane Che sta andando Veramente A fare molti danni Qua prendono il controllo Completo Sì Della mappa Devo dire che Allora Sicuramente la comp Mi piace più Quella del Paris Saint Germain Perché Spike In questo momento Se non lo banni Lo devi utilizzare Quasi ovunque Stessa cosa per Carl Diciamo che vedremo Moltissimo sia Carl Che Spike Sì ma anche Brock Secondo me Da parte dei Nova Non è una cattiva idea È un ottimo mid In questo momento Soprattutto dopo L'introduzione Dell'ultimo gadget Che ricordiamo Permette di fare Delle rotture Veramente precise O dei danni Molto alti E arriva il gol Da parte dei PSG In questa situazione Sì 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 Andranno sul 2-0 Ricordiamo ragazzi Che L'intera Diciamo L'intero punteggio Come funziona È un BO5 Di BO5 Quindi raga Cioè fino all'ultimo Può succedere davvero di tutto Perché saranno partite Davvero lunghe Se la giocano E sto vedendo i set Mi sa che non è come al solito Che ne bastavano 2 Ma servono 3 vittorie a set Perché vedo I pallini in alto Che sono riempiti 2 su 3 E infatti continueranno Su football Quindi bisogna vincere 3 partite ogni set E poi bisogna vincere 3 set Ragazzi Quindi mettetevi comodi Che oggi Ne abbiamo delle belle Da vedere Ciao Marina Un bacione Grazie mille Un saluto La chat E anche i moderatori Che ci stanno aiutando Vedo Un saluto Siamo quasi 12.000 Tra l'altro Siamo quasi 12.000 E raga A parte il fatto Ragazzi Che Se world final Sono partite Già alla grande Ma Sono curioso Poi di vedere Effettivamente La differenza Tra tutti i paesi Cioè perché Fino ad oggi Ne abbiamo parlato Sì forse sono più forti Questi Sono più forti Dell'altri Però già oggi Inizieremo ad avere Un'infarinatura generale Dunque qui Vediamo Un completo cambio Di situazione Ovvero Doppio tank Pocio Per quanto riguarda Il Paris Saint Germain E di là Spike Karl Però Al posto Di Bea Abbiamo Brock Forse in questo caso Gli avrebbe fatto Più comodo Bea Che è un brawler Che contro i tank È davvero tanta roba E qui probabilmente Arriva anche La chiusura del set Da parte del Paris Saint Germain Ragazzi Il Paris Saint Germain In neanche 10 minuti Chiude immediatamente Il primo set di football A proprio favore Sì sì Con un team Comunque tutto sommato Molto fisico Cioè tutto sommato Molto fisico In questa Sì In questa partita Ecco Va bene Va bene Signor Gigi Vediamo se Continuano con questa Predominanza Schiacciante Allora Come stavo dicendo prima Il Paris Saint Germain Sono sempre stati Schiaccianti in football Quindi adesso Sono curioso di vederli Per esempio In un gem O in un rapina O qualsiasi modalità Ci sia adesso Però sì Sicuramente Il Paris Saint Germain Ha iniziato A 2000 A 2000 Ha iniziato Eh sì Eh sì 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 no Sono Vabbè Poi ovviamente Il PSG ragazzi Vuol dire che non sia forte In football Cioè sarebbe un paradosso Vero Secondo me i player Che hanno messo in team Hanno detto Allora sei forte in football Non ci interessa Sei forte Esatto In altre mod Devi essere forte in football No ma hanno messo No ma hanno messo le spille Quella che piange per chi perde E quella che ride per Per chi vince Spettacolare Ah proprio per Ah sì che bello Spettacolare Bella ma Affin Un bacione Grazie caro Sì Ah ricercati Comunque qua abbiamo già Un paio di statistiche Tanti danni in più Per Una partita giocata Sicuramente molto Molto con L'ago della bilancia Dalla loro parte Ecco Sì 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 No veramente Shooting star Signor Gigi Mi sa che è ancora Indietro nella live Signor Ferre Ah ok ok Non capisco mai Ste cose Eh non lo so Subito Andiamo subito avanti Signor Gigi Non è un problema Infatti stavo proprio per dire Che in quella mappa Vedremo parecchi long Perché nessun long È stato bannato E infatti Uuuuh Ritirano fuori la La strategia di Bo Iris Che Si era un po' Diciamo Era stata un po' Ritirata da quando Bo era un po' Uscito dai ranghi Del competitive Non me l'aspettavo Da parte del PSG Me l'aspettavo Da parte dei nuova Esatto Sono d'accordo con te Signor Ferre Sono d'accordo E E invece E invece Guarda Lo va a fare subito La prima kill Sì Farsi la kill Uuuuh Di là Ok Eh 7-4 Ma allora Diciamo che alla fine della fiera In Nova China Hanno messo La comp Che secondo me In questo momento È la migliore Per questa Per questa mappa Però Il PSG Un'altra comp Che anche se in questo momento Non è proprio competitiva Non è proprio competitiva Può counterare tranquillamente E anche a costo E anche a costo di Non muore neanche Attenzione Riesci Aggiungere la torretta Molto bravo In questa situazione Sì Secondo me È un po' Un po' Sbagliato il secondo placement Della torretta Però da parte di Di Bo Di Bo Sì Sono d'accordo Assolutamente Allora guarda Io ti dico Rimango comunque convinto Che la comp Di Nova Sia la migliore In questo momento Per questa mappa Io non vorrei Che in questo frangente Abbiamo proprio visto Un team Essere decisamente Superiore all'altro Anche per quanto riguarda Le skill Adesso abbiamo visto Un team Decisamente È probabile Che sia anche questo Secondo me In una situazione normale Questa comp Non avrebbe vinto No diciamo che magari Poteva anche farcela Però vedi per esempio Quella Piper Quella Piper con Mike Lì non ti puoi mai Avvicinare al Bo Tu con Piper Devi rimanere lontano Non ti puoi avvicinare al Bo Anche il Tic Il Tic Ok che te l'hanno Quasi subito distrutti Quei moretti lì Però devi rimanere lontano Non puoi permetterti Di rimanere lì Poi vedi Mike Che va sulle mine Cioè Abbiamo Per carità La comp Del Paris Saint Germain È ottima Perché Iris È un anti-long E in quella mappa Si usano molti long Con Bo Puoi permetterti Di spammare le testine Come abbiamo visto Quest'oggi Però Abbiamo visto Molti errori Per quanto riguarda I Nuova China Anche abbastanza banali Piper che si avvicina a Bo Piper che prende Le mine Tic che muore un po' Così facilmente Dalla testa Un Brock Che si avvicina Quando è da solo Non lo so Ho visto un po' Troppi errori Avevamo accennato Avevamo accennato Il fatto che sarebbe Stata difficile Per loro Eh sì 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 Quello sicuramente Quello sicuramente Comunque ragazzi Allora intanto C'è Jake Che ti saluta Grazie Jake Cambia completamente Ah ciao Ciao Jake Ciao bello Si cambiano Totalmente Comp tutti e due Eh sì Cambio completo Di comp Diciamo Che qua Il PSG Vabbè Cosa stanno facendo Proprio Perché mi ha messo Una comp così Un mortis Addirittura Cioè È un È una roba Che non mi aspetterei Mai Cioè Non so se Se la sono Azzardata Anche un pochettino Per il vantaggio Accumulato Finora Eh vabbè Però se hai le finali Non te lo puoi permettere Non lo so Eh ma non è che Te lo permetti Per una sorta di allenamento Te lo permetti Per provare a fare la mossa Che il nemico Non si aspetta Anche perché Sicuramente Una compa del genere Te l'aspetti Ma io non mi aspetto Neanche quella dei Nova Cioè Il Beryl Lì così Ora per carità Va a fare una Il Beryl In effetti è molto Poi con Il nuovo gadget Francamente Io non mi ci sto trovando Molto bene No io preferisco L'altro Preferisco E pure Vedo tantissimi player Che lo utilizzano Che lo scelgono E Non so Non so Sono Sono abbastanza Dubbioso Ecco Particolare Abbastanza particolare Non so Allora Stanno continuando A vincere Il Paris Saint Germain Che adesso Non deve fare L'errore Di chiudersi Perché se ti chiudi Contro Tic Hai perso È finita È finita È finita Non ho capito Perché Today Quindi il Brock Non abbia utilizzato Subito Dei gadgettini Per Spaccare un po' I muri Avresti Uno scarto Di 10 punti Lo vanno ad accorciare Sensibilmente Ma non basta Non è bastato Hanno già rischiato Un po' di più Qua I PSG Hanno già rischiato Un po' di più Io quando sei così Superiore Andrei con una comp Classica Non perdi mai Se sei tanto superiore Secondo me Nella partita di prima Abbiamo visto Quanto effettivamente Il Paris Saint Germain Sia C'è una superiorità Evidente Assolutamente Assolutamente Sì Assolutamente Sì Ragazzi Mi raccomando Noi vi ricordiamo Di lasciare un bel mi piace Per supportare Ovviamente Queste World Final Chiaramente poi La live rimarrà online Per chi se la vorrà recuperare In descrizione Trate il canale di Ferro Ovviamente Ma ovviamente Vi ricordo anche Che domani Ci saranno le semifinali E la finalissima Sul canale di Grax Quella proprio Non ve la potete perdere Oggi ci vedremo Un po' tutti i team Che si giocano i quarti di finale Quindi le basi Della World Final E avremo L'opportunità Di vedere un po' tutti i team Che sinceramente Era la cosa Che un po' più Mi attirava E poi domani Appunto invece Ci vedremo proprio Il top del top Tutti quelli che hanno superato Anche il quarto di finale Detto questo Diciamo che oggi C'è una live Un po' più succosa Invece domani C'è la live Un pochettino più Come possiamo dire Decisiva Delitto Sì dai Diciamo Diciamo Sì sì Muffin Mi dice Puoi dire a Ferre Che sono Munif E ho preso Il suo consiglio E su Youtube E mi sono chiesto Muffin Ho letto Ho letto Ciao Muffin Un saluto Un saluto carissimo Quindi a Ferre Devi Il nome Muffin Un bacione caro Grazie ancora Comunque Triplo lanciatore Così Sì Un triplo Un triplo Trower Qua Secondo me Stanno andando Un po' sul troll Perché qua Un triplo lanciatore Non ha assolutamente senso Ma soprattutto E questa cosa qua E' un po' un rischio Che non capisco Perché si vanno a prendere I PSG Io l'unica cosa Che posso immaginare Nel GG Che non vogliono Tra virgolette Spoyle Far vedere le comp Sulle quali si sono preparati Ok Quindi veramente Si inventano delle robe Senza senso Probabile Però Boh Ci può stare Allora Adesso stiamo vedendo Il triplo lanciatore Che sta un po' Chiudendo In Nova China Che però Stanno vincendo Però Se perdono anche Queste In Nova China Hanno ancora Parecchia strada Da fare Prima di raggiungere Un livello mondiale Se perdono anche Questa Hanno tanto 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 Ancora Da imparare Diciamo così Sono in vantaggio Ora Però Quindi vediamo Un attimino Vanno comunque Una Piper Stanno comunque Giocando bene Con Anche con Bea Il vantaggio Digitata Ce l'hanno tutto Proprio Si si Ma poi ormai Mappa aperta Si sono chiusi Allora In questa situazione E' comunque Pericoloso Chiudersi Perché Allora Si sono chiusi Adesso L'hanno salvati La testa di Tic Ma se non avessero avuto La testa di Tic Carica Guarda Hanno perso Hanno vinto di uno Hanno rischiato Cioè questa era una partita Che Hanno rischiato Molto Hanno rischiato Moltissimo Però Alla fine Te la sono portata a casa La comp Era tutta Dalla loro parte Si 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 No no Non si discute Non si discute Soprattutto poi Bea con il nuovo gadget Addirittura E' diventata Ancora più Il nuovo gadget di Bea È veramente una cosa incredibile Ragazzi Non so La torretta Secondo me Potrebbe Meritare una piccola revisione Magari nel prossimo bilanciamento A parte di Supercell Anche perché Così Potrebbe essere Non puoi Non hai scelta Cioè non hai scelta Devi usare il secondo E' quello il discorso Cioè lì non hai scelta Eh si ma È così con tantissimi brawler Questa cosa va Va secondo me Sistemata parecchio Per dire Prendiamo un Carl Carl Ha un secondo gadget Non dico inutile Ma completamente Di un altro scopo Rispetto al primo Cioè Il nuovo gadget Scusami Il Il secondo gadget È molto meno del primo Detto il contrario Signor Gigi Cioè Il nuovo gadget È veramente formidabile Quello di Carl Gli permette di fare Dei dash Assurdi No no è vero Sì sì No no Il secondo gadget di Carl Ma ha ribaltato Completamente il competitive Carl già era Un brawler competitive Adesso lo devi utilizzare Per forza Nel 90% Delle modalità In mappe Comunque Il Paris Saint Germain Torna Sulla comp Con cui ha vinto Inizialmente Però questa volta Non ci avrà la vita Tanto facile Perché ti dico Quel mortis Non è facile Gestire mortis Con iris Eh Ni 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 Uh Qual gadget L'abbiamo subito Riconosciuto Di Brock Eh sì Mamma mia Ma ti dico Mortis Bisogna vedere Anche come lo utilizzano Ovvio Ovvio Perché Bisogna vedere Qua è un po' Anche la bocca del singolo Abbiamo parlato di bravura Del team Di livello del team Ma ecco qua Molto bravo Dasha con mortis E va A body bloccare La La Il bip di Iris Non è male Sì Non è male La scelta di mortis In questa maniera E qua C'è un piccolo eroe Da parte di Di Captain Dei Nuova Guarda bene Le schivate Today Molto bravo In questa fase E qua però Cosa vuole fare Eh devono Devono Come si dice Un attimino Concredizzare Il predominio Del campo Perché nuova Stanno Per adesso Dominando il campo Però Non fanno kill Non lo so L'avrei supportato In qualche altra maniera Mortis Ma in realtà È giusto Cioè è giusto È normale Che con questa tecnica Che stanno utilizzando I PSG Si rinunci Al predominio Del campo Perché diventa Solamente Un difendersi Quello Di Bo E Brock Che kill L'ha fatto E qua è stata Schiacciante Muffin Grazie anche Dell'abbonamento Caro Un bacione Raga Io direi Che Allora Da te siamo Più di 10.000 A questo punto Ve la butto lì Dobbiamo arrivare A 10.000 like Prima Arriviamo a 7.000 E poi piano piano Dobbiamo arrivare Anche a 10.000 like Cioè non facciamo Le brutte persone Ma soprattutto Ragazzi Secondo i miei calcoli Sinorgigi Per raggiungere 10.000 like Basta che ognuno Metta un like Secondo i miei calcoli Raga vediamo Allora Proviamo a lasciare Tutti i like Vediamo che succede Facciamo questa prova Vediamo se i miei calcoli Sono corretti Se tutti mettono like Arriviamo a 10.000 like Vediamo Vediamo che succede Secondo me È possibile Si può fare Si può fare Ragazzi ovviamente Tra l'altro io vi ricordo Che settimana prossima Dovrebbe uscire Il nuovo Brawl Pass Ovviamente Chi lo shop Settimana prossima Giorni praticamente Sì esatto Sì è proprio lunedì Se non sbaglio E Ragazzi ovviamente Io vi ricordo Che quando shoppate Ci sono dei codici creatori Molto croccanti Qui c'è il codice creatore Ferre C'è il codice creatore GGYT C'è anche ovviamente Quello di Grax Cioè ragazzi Ci sono dei codici creatori Croccanti Dei caster Che vi stanno commentando La fase finale Di questa Brawl Stars Championship Che potete supportare Ovviamente Se dovreste Non dimenticate mai L'importante È inserirlo Non shoppate mai Senza inserire il codice Ragazzi Almeno supportate Qualcuno di noi L'importante è inserirlo Poi fate un pochettino voi Ecco Però Non dimenticatevelo mai Che è un supporto Gratuito Fondamentalmente Che uno può dare in più Quando decide di shoppare qualcosa Esatto Cioè non è che dovete Shoppare per supportare noi Voi shoppate come Quando volete Cioè Esatto Quando uno shoppa Per i cavoli suoi Ha la possibilità di Di supportare Ovviamente anche magari Con le gemme Che guadagnate gratuitamente Ci supportate anche con quello Ovviamente E ma La cosa bella È proprio quella Esatto È quello Il big Il grosso Che potete fare Che pur senza shoppando Raccimolate le gemme E poi Shoppando con le gemme Che guadagnate gratuitamente Ci riuscite A supportare Detto questo Muffin dice Giustamente Lasciate like E non fate i monelli Giustamente Ecco Ecco giusto Giustissimo Ma io vorrei solamente Eh Fare una piccola precisazione In chat Signor Luigi Perché qua C'è un punto esclamativo Pin in chat Continuo Ma non c'è Vogliamo spiegare che Non esiste quel comando Ragazzi Non scrivete Punto esclamativo Pin Non esiste il comando Pin ragazzi Ci dispiace Il pin si riceve Da quanto so io Automaticamente Senza Senza scrivere niente Ragazzi Non scrivete nulla Scriveteci piuttosto Cosa ne pensate Di questi Di questi match Esatto Cosa ne pensate Delle grafiche Che sono apparse prima Con il logo Del PSG Che si stampa Sul badge Della modalità Che hanno vinto Non so se hai notato Quella Quella piccola Chicca Signor Gigi Sì Sì assolutamente Assolutamente No ma Il fatto è che Sono talmente tante Cioè Hanno fatto tutte le Brawl Stars Championship In un modo E adesso La World Final È tutta ricchissima Di dettagli Che notarli tutti È anche difficile Sì no ma anche Perché appunto Non essendo lì In studio Si sono dovuti inventare Tutte queste cose Per cercare di renderla Il più godibile possibile Credo ci siano proprio Riusciti Intanto ringrazio Caccia per essersi abbonato Un bacione Sì no hanno fatto Delle cose pazzesche Hanno fatto eh Allora Ci arrivano Risposte Dai piani alti Diciamo così La spilla Verrà consegnata Settimana prossima Come scritto Nel pop up Ma effettivamente Ragazzi c'è scritto Nel pop up Ma sai cos'è Che ha creato Molta confusione Che qualcuno L'ha già ricevuta Sarà per questo Forse Sì ragazzi Perché io Personalmente L'ho già ricevuta Lei signor Gigi L'ha già ricevuta Anch'io sì Ragazzi è scritto Voi avete premuto Guarda Top Avete premuto Guarda La otterrete E Ah no no Quella del trofeo Quella del trofeo Attenzione Ok quindi Quell'altra Quella del trofeo Quella del trofeo Aspetta Non quella Non quella del cuore Quindi è quella È quell'altra Quella del solo Il trofeo Capito Comunque ragazzi Detto questo Facciamo chiarezza Per Ricevere la spilla Quindi il pin Insomma Sì sì basta cliccare Guarda Esatto Dovete entrare in game Dovete entrare in game E vi viene scritto Premi su guarda Per sbloccare La spilla Settimana prossima Quindi settimana prossima Mi verrà poi consegnata Effettivamente Quella spilla E Niente Cioè sì ragazzi C'è scritto Nel badge Quando Io non l'avevo ancora visto Il pop up Però effettivamente C'è scritto C'è Easy Ci sta Ci sta ragazzi Sì 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 No infatti Infatti Beccate Questa spilla Eh ma La spilla è talmente bella Che la vogliono tutti quanti subito Oh finalmente Ambra Ambra Che non è stata nata Signor Gigi Lo farei notare Eh però Ha subito Un grosso nerf Eh ma È ancora uno dei brawler Se non il brawler Che fa più danno Nel gioco eh Non vorrei dire Nevolate ma Quello è vero Che sia così Sì 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 Quello è vero Quello è vero Cioè È un cambio Di tendenza forte Rispetto come siamo stati Abituati con Il primo Il secondo Brawl Pass Con Surge E Gale Che erano Praticamente La facevano padrone Loro Non Sempre bannati Sempre bannati L'hanno dovuto fare Dei nerf Importantissimi Sì su tutti e due Pazzeschi No ma Allora ti dico Ambra Anche a livello italiano Quindi In EVC L'ultima volta Non è stata quasi mai bannata E non è neanche stata Più di troppo utilizzata Se ti posso dire Secondo me qua C'è stato Un errore Però grosso Aveva la possibilità Di Di fare molti più danni Non capisco perché Non ha insistito Per farli Tornare indietro Per difendere Sì Non lo so Ma allora Diceva Anche in EVC Non è stata utilizzata molto No 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 Neanche in EVC Allora Prima del nerf Veniva utilizzata Cioè veniva bannata Sempre e comunque Cioè prima del nerf Veniva automaticamente bannata Dopo il nerf Veniva È stata bannata solo in Qualche Due tre Modalità Poca roba comunque Ok E Però quelle poche volte Non veniva bannata Non veniva quasi mai Utilizzata Ok E qui Innova No scusate Innova Il Paris Saint Germain Va A prendersi la seconda Vittoria Se non sbaglio In rapina E abbiamo già Il primo match point A sto punto Mi sa Eh sì Eh sì Signor Gigi Il PSG Ha continuato a dominare Senza Senza Praticamente Mai fermarsi E Neanche Ambra alla fine È servita Per Per ribaltare Un pochettino La situazione C'è stata Una grossissima Differenza Di livello Cioè c'è poco Da star lì Sì Mi è sembrato No No mi è sembrato Diciamo Mi ha un po' Strenito Non vedere Spike Spike Solitamente in questa mappa Può veramente fare la differenza Hanno preferito Diciamo che È un pochettino Più Adatta ai long Perché comunque Molto aperta Quindi Spike È buono È buono Però ci sta comunque Anche la scelta Non mettere un Brock Non l'avrei capita No no Brock È fondamentale Brock ormai È in queste mappe Così Soprattutto In queste mappe Di rapina Che hanno fatto Molto particolari Dove ci sono Dei punti Dove tu non puoi passare Però se spacchi Puoi passare No Ecco per esempio Adesso non è stato messo Brock Vabbè Così A caso Di là invece C'è stata una Una comp copiata Fondamentalmente Perché Innova Non hanno fatto altro Che prendere la comp Che hanno utilizzato prima Al Paris Saint Germain CTRLC CTRLV Esattamente Ma io ti dico Che sta partita La andrà a vincere A mani basse Innova China Dici addirittura Eh Sì Allora È lo stesso discorso di prima Se perdi questa partita Vuol dire che sei veramente Anni luce indietro Eh Cioè Hai le comp Hai la comp Troppo Troppo a favore C'è anche lo split Della mappa Eh no Sì 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 Ma c'è troppo Cioè Allora Questa Innova Non potevano perderla Non ho capito la scelta Del Paris Saint Germain Io Capisco Non voler far vedere Le comp Che utilizzerai Perché hai ormai vinto La partita L'hai stradominata E sei strasuperiore Rispetto a Innova China Però Boh Questo mi sembra Un po' troppo esagerato Sì Una finale mondiale Ci va anche forse Un po' di Rispetto Per l'avversario E andare Cioè Non stare lì A trattenerti Ecco Alcare seriamente No no Ma anche perché no Adesso che Innova China Hanno vinto Sta partita Cioè Io penso Comunque Anche se Hanno avuto il gioco Più tardi Rispetto a noi Io credo che Quei tre ragazzi Ne sappiano Molto più rispetto A me e te Per esempio No Però Sicuramente Vinci questa partita Di scrivere L'avranno pur fatta Se no Andiamo in Cina Se no Gigi Entriamo subito Nel mondo Dell'e-sport Si passa Da commentatori A player Subito Esatto E Loro lo sanno Che sta partita L'hanno vinta Perché il Paris Saint Germain Ha voluto tirar fuori Quella comp Cioè Non lo so Come dicevi tu Non mi sembra neanche Troppo rispettoso Eh Sì Io lo dico così Perché Come altro lo definisce Nel senso Ha una finale mondiale Vai Cioè Non devi stare lì a A tenerti L'asso nella manica No no Infatti Anche perché Comunque i PSG Adesso vincendo Vanno contro O i Code Magic Se non sbaglio O gli SK Cioè Lei La differenza Non la fa Aver fatto vedere la comp O no La differenza La fa giocare al top Ma anche perché Allora Io lo dico sempre E soprattutto In questa In questa Finale in particolare Vale ancora di più Questo concetto Ovvero La scelta della comp Fa quasi Il 60-70% Della partita Forse 70% Lo possiamo dire Tranquilla A questi livelli Ovviamente Parliamo sempre Di questi livelli Perché Tu fai solo Due ban Su 40 brawler Hai talmente Tanta scelta Che Può essere Effettivamente La scelta Della comp Che fa la differenza Però poi Su brawler È tutto un gioco Di squadra Io ti supporto Tu non mi supporti Vinco io la lane Con il mio avversario Quindi posso andare A supportare il mio amico Il mio compagno Cioè È comunque poi Un fattore di skill A quel punto È un fattore Di andare E predominare La tua lane Predominare il centro Predominare la tua zona E andare avanti E quindi Io farei notare Solo anche Il Il Piccolo dettaglio Che Il Mi sembra Carl Dei Nova China Ha Quando ho vinto Ha screenshotato La La schermata Di win Sui PSG Scusami Ma dovevo No E comunque Assolutamente La scelta Della comp È quel 20% Che ti dà L'80% Del risultato Probabilmente Comunque Questa commentatrice Le adoro Comunque Signor Giglie È fantastica Ci dica il perché Supercell Ci dica il perché No perché Cioè Tutti gli eventi Supercell Li presenta lei Tutti gli eventi Supercell Quelli Della finale Però tu intendi Quelli tipo finali Sì sì Vabbè Eventi importanti Eventi importanti È la presentatrice Adesso non so Se è proprio Ufficiale Supercell O comunque Una presentatrice Che chiamano sempre Ok 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 E chi potevano Non chiamare Se non Woody In 3D Comunque Già in posa Già in posa Già in posa Ma non era Non era mica facile Perché Cioè Ovviamente Allora ragazzi Noi ovviamente Vediamo Woody E vediamo lei Che guarda Woody Ma lei in questo momento Non sta vedendo Woody Cioè quella lì È una roba 3D Che hanno fatto Graficamente È un È un È un Immagine Con paint Cioè È pazzesco È un'immagine Fatta con paint Ragazzi Sì 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 Buttato lì Completamente a caso E Guarda 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 che Bellissimo Che bello Regà Madonna Adesso Gigi Ci mettiamo a farle Anche noi Nel nostro Vio Queste cose Basta Ma essere così Professionali Mamma mia Che lavoro Ci deve stare dietro Però È facile È facile Lo possiamo fare Tranquillamente Tutti i giorni Con la nostra Cadenza Mamma mia Mamma mia Comunque Tra l'altro Signor Ferre La sua teoria Si sta per avverare Perché siamo a 9500 Mi piace Quindi direi ragazzi Che stiamo lì Ragazzi Cioè Ai 10.000 like Che stiamo lì Ma ovviamente Regà Io vi ricordo Anche di iscrivervi Al mio canale Di passare da Ferre Che c'è il link In descrizione Il signor Grax Che domani In mia compagnia Appunto Andremo a commentare Le finali Le finalissime Cioè Gli altri turni Delle partite di oggi Quindi per esempio Andremo a vedere Il Paris Saint Germain Contro chi vincerà Quest'altra partita Tra Code Magic Ed SK Cioè Ci saranno Delle partite Molto importanti Quindi mi raccomando Ragazzuoli Controllate di essere iscritti Se non lo siete Iscrivetevi Passate al Buon Ferre C'è il link in descrizione Perché poi settimana prossima Appunto uscirà Anche il nuovo Brawl Pass Quindi ci saranno tutti I nuovi contenuti Anche sul nuovo Brawler Lu Che ovviamente Noi sui nostri canali Vi abbiamo già portato In anteprima In esclusiva Urca E mancano adesso Neanche ho finito di parlare Mancano Praticamente Meno di 100 like Ragazzi Quindi forza Io credo in voi Ma soprattutto Regà Io penso che la partita Che stiamo per andare a vedere Sia una partita Che poteva tranquillamente Essere già una finale Secondo me Code Magic SK E noi L'andremo a vedere Già Ai quarti Oddio Ma Sta pubblicità Sta pubblicità Signor Gigi Che è una pubblicità Fatta A tema Brawl Stars Quindi non è uno sponsor Sì esatto Non è uno sponsor È una finta pubblicità Piper's Break House Cioè signori Ma Cioè raga Hanno tirato fuori Dei Degli sponsor Degli annunci Pink Esatto Esatto Vabbè Quando Quando Ti fai da sponsor Da solo Insomma Fantastico Fantastico Mamma mia Ma Insomma Raga Ovviamente La stessa teoria Delle Dei mi piace Vale anche per le iscrizioni Se vi iscrivete Ragazzi In 9000 Probabilmente Il buon Gigi Arriva a 918.000 Iscritti Io farei una petizione Facciamo arrivare Gigi a un milione Per favore ragazzi Facciamo una nuova petizione Cioè Sono stufo di vedere Gigi a 900.000 Ragazzi Voglio Gigi a un milione Per favore Grazie Era giusto per Questo era un annuncio Ragazzi L'ho pagato prima Per questa sponsorizzazione Raga Raga Io sono stufo No Guardalo Guardalo qui Ragazzi Il sommo Il maestro YD Il buon YD Dell'SK Non ha bisogno Di presentazioni Pensa che YD Detiene il record Di Il maggior numero Di brawler Fatti per primo Al mondo Al 35 Cioè lui Per sette volte Ha portato È stato il pioniere Ha portato Un determinato Brawler Al rank 35 Per la prima volta È una roba È una roba È una roba Pazzesca Se ci pensi Cioè lui Esce un nuovo Brawler E deve essere Il primo A farlo Rank 35 È una roba C'ha sto record Che sta portando avanti È già a sette No Cioè sette di fila Ma di fila Eh no Non lo so se di fila No Gli ultimi Secondo me Li ha imbroccati Tutti quanti lui Secondo me sì Ok Ma è una cosa Senza senso Cioè ragazzi Non è Non è facile Perché bisogna Essere lì pronti Quando il brawler esce E Averlo Già inquadrato Capire bene o male Come funziona Shoppare subito tutto Proprio Devi shoppare subito tutto Devi averlo in un minuto E inizare a giocare Per Marti Cioè Sì 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 No infatti Infatti non è Non è per niente facile I God Magic Giocheranno con KC Dov'è Cursed? Dunque Base Gaming Grazie dell'abbonamento caro Un bacione Oddio E che team Che team che abbiamo Signor Gigi Che team che abbiamo Oh Gin E Max Quindi si potrebbe vedere Colette Allora Gin in realtà Non Non mi sorprende Perché Sempre in ultima giornata Dell'EVC È stato Bannato perennemente È stato l'unico brawler Sempre e comunque Bannato Ah ma ci sono anche Quindi Falcone Infatti Vi devo No loro stanno lì In studio Non credo Sì sì Loro sono dal vivo E Oltretutto Ragazzi vedo una cosa Che non mi piace Per niente Quella spilla Che ha a destra Falcone È una spilla Che non ho mai visto Di leone Mi sa Dove l'ha presa Non lo so Non lo dite a ferre Che poi se no Prende parte E la va a cercare In tutto il mondo Dove l'ha presa Dove l'ha presa Uh qui partiamo Con Arraffa E poi Futbro L'attenzione Arraffa Miniera rocciatura Questa camappa storica Signor Gigi Posso dirlo Vai Lo può dire Lo può dire Lo dico Aspetta Faccio il conto alla rovescia Aspetta Aspetta Eh Faccio il conto alla rovescia Aspetta Allora 3 2 1 Qua Rico Worka Signori Il momento Che tutti stavamo Aspettando Qua Rico Worka E se mi mettono Rico Io volo Allora Vediamo Perché sono già partiti Ma come si fanno Mettere Rico Signor Gigi Ma cosa stanno facendo Niente Niente Rico Mi dispiace Signor Ferre Vabbè Hanno scritto Rico Worka Anche in chat Quindi la gente Insomma Era già Sulla mia stessa lunghezza D'onda Bravi ragazzi Eh Raga Raga Abbiamo Delle comp Molto interessanti Qua Gigi Siamo passati Da un livello A A un livello Y Proprio Abbiamo fatto tutto L'alfabeto Sì 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 Siamo passati A un altro Questo qua Ragazzi Non dico Una finale Anticipata Perché è una parola Grossa Però Sarebbe potuta Essere Una finale Anticipata Esatto Esatto Ti dico la verità Ora Non me ne voglia Casey Perché non me ne voglia Casey Assolutamente Gli voglio bene I code I code I code magic Già arrivavano Alle finali Mensili Con Casey E Cursed E Sun Bentley Quindi non è che Stiamo parlando di un giocatore Così tanto scarso Insomma Però i code magic Hanno iniziato a dominare Da quando Twisty Tweak Ha iniziato a giocare Con Sun Bentley E Cursed Non so di questa scelta Può essere anche tecnica Io sarei anche contento Se Casey Ha avuto Un expluà Negli ultimi mesi Talmente così assurdo Che Si è meritato addirittura Al posto Il posto Al posto Di Cursed Però attenzione Perché qui rischiano Eh Va a fare un bellissimo Una gempa Ma come si è mosso bene Sì Rimangono con nove gemme Però così facendo Sì No perché sono riusciti A prendergliene una Quando sono andati in base Eh Però guardala lì L'ultima Comunque sono stati molto bravi Bellissimi a questa azione Sì 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 Qua arrivano a undici Potrebbe arrivare la kill Skyrix Ha Il surge a quarto livello Può giocarsela qua Può giocarsela Sì Perché può fare i danni Eh no Però tra i secondi Non ce la fai secondo me No 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 Vediamo un po' Vediamo un po' No 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 Eh no no Signor Ferre Mi sa che sta leggermente Dietro ancora Eh no Infatti 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 Quando mi ha detto Tre secondi Ho fatto per due Ma Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi La spilla ragazzi La mettono Ogni tanto lo ricordo Perché giustamente Ossia almeno Non I ragazzi Non arrivano impreparati C'era scritto nel pop up Eh raga Perché siete sempre voi Che leggete poco Purtroppo Perché Come quando tipo Si abbonano Signor Ferre Io Con Serena Abbiamo perso Un'intera giornata Per scrivere Quando si abbonano Cosa devono fare È una causa persa Io ormai Anche io l'ho scritto Ma Ormai lo spiego sempre Non legge mai nessuno Ragazzi Ma ve lo spiego Più che altro Per la vita Non per brawler Non per gli abbonamenti Non per le cose Se vi appare un pop up Quando fate una determinata cosa Leggete Mettete caso Se nella seconda riga C'era scritto tipo Eh Clicca qui e perderai Sto scherzando Eh però Perderai tutti i tuoi brawler Che fai Per una spilla Perdi tutti i tuoi Cioè Eh Leggete le cose Comunque c'era scritto Nel pop up Che avete cliccato Prima di entrare Nella live C'era scritto Che settimana prossima Vi verrà consegnata Voi avete cliccato Su guarda Perfetto Adesso la guardiamo insieme La championship E poi prossima settimana E poi prossima settimana Vi arriverà La spilla C'era scritto Eh ragazzi Non la di Ovviamente non parlo a tutti Perché so che non tutti Non leggono le cose Però Ma ragazzi Io sto con chi non legge Perché sono primo Che non leggiamo niente Quindi Io vi difendo Però Appunto Così abbiamo dato Una risposta A tutti quanti Ok Comunque No Allora Io dipende Da quello che faccio Dipende da quello che faccio Se so che una cosa Mi dovrebbe venire spiegata Leggo solitamente Quello Però sì Ci sta anche io No beh Diciamo che tendenzialmente Se non leggo Non chiedo Non chiedo Così Esatto Esatto È bravo È vero È vero I signori oscuri sanno I signori oscuri sanno Che io sono uno che Legge Legge veramente Ah ok Cioè sono dieci righe Le leggo due Poi passo altre Faccio altre Il signore oscuri Inascolto In questo momento Probabilmente Staranno ridendo Di me Tra l'altro Mandiamo un saluto Mandiamo un saluto A tutta l'organizzazione Che c'è dietro A questi eventi E anche La parte italiana Ragazzi Di Supercell Un saluto a tutti Assolutamente E qua arriva la seconda Win da parte Dei Dei Code Magic Dei Code Magic Altra vittoria Non vorrei dire Troppo schiacciante Ma abbastanza dominata Molto controllata Situazione comunque Molto 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 controllata Comunque sì Ovviamente Assolutamente Anch'io Mi allaccio A quello che dicevi tu Cioè Un GG A tutta l'organizzazione Che c'è stata dietro E ovviamente Ringraziamo anche La sezione italiana Che ci ha dato La possibilità Guarda Sam Bentley Che c'è Da gaming Che c'aveva Hai visto Sta lì Nel suo Officetto Guardalo Guardalo Se vince il mondiale Così È il mio eroe È fantastico Se vince il mondiale Così Diventa Diventa Il mio eroe Guarda 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 Twisting Che è incazzato Che è Twisting Di un preso Bene Achille YD E Scarix Sono molto In difficoltà Sì Anche perché Le comp Sono quelle Più o meno Cioè Le scelte di comp Giusto L'Energetic È stato scelto Più volte Dalli SK E stanno perdendo Però Non lo so Non lo so Vedo decisamente Più preparati I Code Magic Vedo Però ripeto Gli SK Erano un team Che Che secondo me Se Fosse finito Contro tante Altre squadre Cioè Erano solo un team Che se fosse finito Contro tante altre squadre Di questo Bracket Non sarebbe Arrivato sul 2-0 Per niente Anzi No 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 Io è quello che dicevo prima Io Sono Sono rimasto un po' Deluso Da Ovviamente Però era casuale Cioè nel senso Non è che ce l'ho con nessuno Però sono rimasto un po' Deluso dal Dal sorteggio Perché appunto Due team del genere Ce li siamo andati a vedere Immediatamente Cioè io avrei voluto vedere Immediatamente Gli americani Contro gli europei Gli asiatici Contro gli europei E vabbè La Cina Da una parte Da una parte Questo è bello Perché non si va a creare Proprio troppo divario Tra la live di oggi E le live di domani Cioè la live di oggi Comunque è super godibile Ragazzi Sì Anzi Ci sono già delle partite Come questa Che valgono veramente La pena di essere viste Perché Insegnano un sacco di cose Sicuramente Banalmente Come Come giocate Ragazzi Cioè siamo veramente Un altro livello Che poi io tra l'altro Sono ancora curioso Di vedere gli americani Perché Io Sono partito con mister A commentare la sezione americana Che Era una risata continua Cioè era una risata continua Però Nelle ultime Nelle ultime uscite Gli americani Devo dire la verità Ci avevano regalato Delle Delle prestazioni Degne di nota Eh Gli americani Ultenta Hanno fatto Quell'upgrade Che oggi Sono curioso di vedere E E poi tra l'altro Quindi non dobbiamo ridere oggi No oggi no Cioè spero 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 Però no Stavo cercando di ricordarmi Contro chi gioano Mi sa proprio contro gli Jupiter Mi sa non contro un'europea Mi sa contro un'asiatica Giocheranno Mi sa contro un'asiatica Se non sbaglio Comunque qui Completo cambio di comp Per quanto riguarda gli SK E probabilmente Riusciranno a portarsela a casa Perché io qui non vedo come Eh sì Le Magic possano ribaltare Questa situazione Con una rosa a fin di vita Un Carl Con più di metà vita Il pocio che lo cura Poi perché va giù Questa partita Molto controllata Invece da parte Gli SK Qua sono stati molto bravi Gli SK Sì Sono stati molto bravi Gli SK Hanno sicuramente Ritirato fuori un pochettino La grinta Hanno anche giocato un attimino meglio Mi è piaciuta molto L'azione Sulla lane di destra Che ha costretto al jump Sam Bentley E poi Chi era con Skyrix È riuscito A rientrare sulla lane E portarsi in casa Sei gemme Comunque No comunque Con quella poltrona Ragazzi Veramente Spacca tutto Cioè Si è messo pure La copertina Ha vinto Ha proprio vinto Ma io Allora Sam Bentley Anche nelle Quando c'erano sostanzialmente Le finali in loco Era quello che C'era un po' più di personalità Quando passava la cam Faceva cose Eccetera Io non vorrei Che l'abbia quasi fatto apposta Cioè nel senso No No Tipo per trollare Capito Cioè Messo lì Dice Lui avrà detto Guardate io ho bisogno di star comodo Se volete che vinca il mondiale Va bene però Devo stare comodo Esatto Pazzia Oh doppia colette Eh Si 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 Ma non è bannata No non è bannata Ma io ti posso dire Che comunque Mi piace di più La comp Dei Degli SK Ma posso dire Posso dire Che twisty tweak Ragazzi È già due volte Che fa una mossa Super intelligente Cioè Aspetta Che I nemici Arrivino Sul mid Ok Proprio sul mid Dove ci sono Dove c'è quella rientranza Con i due cristalli Rosa Insomma Dove è passato adesso KC Ok Centrale E spara un colpo lì Con il gadget E praticamente È già due volte che fa Kill E spacca Più rottura Si È vero In un punto Super strategico Vero è vero Super strategico Veramente Cioè ragazzi Sono dettagli Però Se avvengono due volte Due volte di fine Nella stessa partita Non sono a caso Sono fatte per una ragione No no Infatti Infatti No Era Prima pure l'aveva fatto È vero Adesso mi ci fai pensare È riuscito a farlo Prende tutte le partite Allora ti dico Secondo me Se i God Magic Questa dovessero perderla Intanto grazie Zisan Per il supporto Se questa dovessero perderla Probabilmente andremo a vedere Un Carla Perché Carla Ha veramente spostato Gli equilibri Hanno tolto Che poi fatalità Hanno tolto Energetic Niente Non c'è niente a fare Raga Sta cosa di Energetic Che perde Continua Tranquillamente proprio È un Ormai È la legge di Gigi Cioè Quella di prima Era la mia legge Questa qua È la legge di Gigi Sì 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 Bella Federico Grazie per il supporto Però sono andati di fatto Raga Cioè Hanno utilizzato Energetic Per le prime due partite Hanno perso in maniera Anche abbastanza Pesante Hanno tolto Energetic Che stanno vincendo Guarda come hanno Completamente ribaltato La situazione Ora tralasciando Questa partita Vincendola Vanno sul due pari Sì Hanno fatto un ottimo Recoup qui Hanno fatto Che si sbaglia Uh Vanno a pareggiare Aspetta un attimo Ho parlato troppo presto Ho parlato decisamente Troppo presto No Allora Qui Sì Il fatto è che C'è un vantaggio Digitato Da parte Dei Code Magic Ma non è neanche Così incredibile Attenzione a Carl Eh no In realtà In realtà no Perché comunque Non Carl Infatti vado a arrivare Vanno a pareggiare Uh E di qua Deve stare attento Comunque notare Che stanno Stanno giocando Ovviamente Su Sui loro Sui loro device E Ci hanno Quasi un centinaio Di spettatori In game Sì Madonna Eh io Ti dico Che questa La vanno a rivincere Gli SK Gli SK Andiamo sul due pari Andiamo sul due pari Pazzesco ragazzi Gli SK Assolutamente Gli SK Dimettono In parità La situazione Pazzesco Oh yes Oh yes Molto Molto bello Il recupero E Sono contento Perché gli SK Meritavano molto Di più Di così Sì 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 Sarebbe stato Abbastanza ingiusto Vederli perdere subito 2 a 0 In arraffa 3 a 0 Anzi Eh però qua adesso I God Magic Rischiano Ripetisco Non ho capito Tanto la scelta Di Di KC Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Il KS BTV 2008 Grazie dell'abbonamento Caro Un bacione Grazie mille Eh raga E complimenti a Gigi Per aver letto Correttamente il nome Che io Ma non so neanche Se l'ho letto Correttamente Ma Comunque ragazzi Ho visto già Un twist Un pochettino Più calmo Prima era Super agitato L'ho visto tutto Invece E tra l'altro È costantemente Fuori dall'inquadratura Perché si Si nasconde Si vergogna Ragazzi Perché sta giù Sta giocando Si è messo in posizione Da E' proprio in posizione Da Da Nerdare Guardalo Eh guardalo Allora Signor Gigi Presentiamo sta comp E cosa abbiamo qua Abbiamo una mirror comp Abbiamo una mirror comp Ma non abbiamo Le stesse abilità stellari Perché Carl Utilizza quella Allora un Carl Quello di YD Ha la gittata Più veloce E qua va a fare Una kill pazzesca E l'altro c'ha lo scudo C'ha lo scudo Si Mi sembra sia l'unica Abilità che cambia Ma guarda gli SK Come hanno dominato E io sinceramente Prediligo la scelta Di YD In questo caso Come star power Anch'io C'è un ottimo controllo Da parte di Achille Sul mid Ragazzi Addirittura Guardate twist Qua come riesce Con colletto A spingere via Il nemico Riesce twist A andare Praticamente Nel loro spawn E qua può Andare veramente A dar molto fastidio Buono il jump Di Di Della piper Delle SK E 9-1 Sta pushando molto Eh sì 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 Ti ripeto Qua twist Praticamente Da solo È riuscito A andare a fare Una pressione Importante Su Sui nemici Però no Qua gli SK Tornano poco su Bellini ragazzi Gli SK Che lo stanno facendo Mamma mia Con la Mirror comp Ma io ti dico Ha fatto la differenza Proprio la scelta Dell'abilità stellare Di Carla Perché All'inizio Il Carla Guardalo No no Ma ha vinto Immediatamente La lane Il Carla Ha vinto subito La lane Sulla sinistra E è andato A prendersi La piper E da lì I god magic Non hanno più Non sono più Usciti Non sono più Usciti da lì E vanno a fare il 7 Vanno a fare il 7 Mi fa molto ben sperare Questa cosa Signor Gigi Mi fa molto Molto ben sperare Perché Sinceramente C'è l'SK Li ho visti partire Molto in difficoltà Sì E invece Così Guardalo Guardalo lì Sono disperati Come contento Ci sta I god magic Sono disperati Però Ricordiamo ragazzi Che se scrivete Magic Nello shop Non si attiva Nessun codice creatore Utilizzate Codici Gigi Ferre Grax Mi raccomando Non mettete magic Solo il nome Quello lì Ok Signor Gigi Scusi ogni tanto Devo farmi Farmi queste uscite Il cod magic Non è vabbè Lasciamo stare Ragazzi Ricordiamo Codici creatori Ferre Codici creatori Gigi Yt Grax Ragazzi Ma quello è il primo Quello smontano Non possono portarmelo in camera Che ci sta Ci sta giusto Ci sta giusto Qui in camera Dai Sarebbe bello Per favore Sarebbe bello Sarebbe bello Ok Signor Gigi Siamo in footbrawl Footbrawl E Sarà Molto particolare Adesso vedere le scelte Perché Non abbiamo Eugenio Chissà se vedremo Qualche lanciatore E spike Soprattutto Sto vedendo poco spike Quando secondo me Potrebbe essere Una scelta Che potrebbe fare La differenza C'è un brawler Qua in sta mappa Che potrebbe Però non lo dico La chat lo sa Lo dice la chat Lo dice la chat Lo dice la chat E Ragazzi qua spike Ce lo vedevo anche io tanto Ma non viene scelto Addirittura abbiamo Guarda gli SG Ragazzi Ma guarda gli SG Pazzesco Pazzesco Hanno già segnato Gli SG Pazzesco Secondo me Solo per lo spavento Che ti dà Mortis Solo per lo spavento Che ti dà Mortis Hanno fatto gol Solo per questo Sì sì Guarda che dash Pulitissimo Eh ma qua Ha usato la ultima U No ma Non lo so Urca La parata Vuoi dire Eh Signor Gigi Devo Recuperarla Perché qua sono Leggermente in ritardo Non capisco perché La leva oggi È costantemente In delay Però Ebbene ho anche Abbassato la qualità Ah qui devono Devono Cercare Di far gol Il prima possibile E poi cercare Di spaccare Tutto il prima possibile Perché ovviamente Nel momento in cui La mappa si spacca Qua il gadget Su ID Ha dato veramente Il gadget di Bea È veramente Devastante Eh sì 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 In questo momento è devastante Bravissimo Bravissimo Achille con il push Di Di Carl Un po' presuntuoso Riesce a spingere via Però i nemici E Non lasciare tutto lo spazio Per andare a fare gol Molto bravo Achille Sì 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 Ha tenuto Ha tenuto bene Tutti i nemici In questo Allora Io ti dico La La comp di God Magic Mi piace Però secondo me In football Qualcuno che Carri al gol Ci vuole Cioè Qualcuno che tu Dici Ok con lui Puoi andare A fare il gol Ci vuole E non ce l'ha Però ad esempio Gli SK Qua hanno fatto L'esatto contrario Cioè Hanno Troppa gente Che li Carri al gol Addirittura qua Cercano il Vabbè ma cosa fa WID Fa quasi il full team Sei ancora Mi sa Sei ancora indietrissimo Sei signor Ferre Ma signor Gigi Ma io continuo a fare Per due Io Mi mancano 27 secondi Per la fine della partita A me 25 24 Ma abbia pazienza Signor Gigi Sto continuando a refresh Neanche col per due Ti si mette A pari No Adesso Sto Ho refresh Tutto Ma no Tra l'altro Ho visto Ragà Lo sapete perché Twisty Tweak È andata a destra Perché pensava Che la palla Fosse ancora a destra Ah E Invece hanno spostata A sinistra Lol Ragà E quella non è una cosa da poco Comunque No 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 Non è una cosa da poco per niente Cioè A parte che Il ladder È difficile Per chi gioca normalmente Usare sta tecnica Del mettere la palla nell'angolo Ogni tanto capita Sì Però arrivare a prendere E spostarla Questa è proprio Siamo proprio sull'e-sport Puro Cioè qua Madonna Io sarei comunque anche Un sacco curioso Di sapere che Caspita Si dicono Cioè Mentre giocano Io penso che Andrebbe tutto quanto Censurato Signor Gigi Probabilmente Probabilmente Però C'hanno un fuoco Negli occhi Sti ragazzi Comunque Comunque si vede Che i Code Magic Sapevano di essere I favoriti Perché li vedo Un sacco tesi Poi dopo le due vittorie Sì Non se lo aspettavano Non se lo aspettavano Non se lo aspettavano Gli SK Stanno veramente Tirando fuori Tutti gli attributi Eh sì Nel senso Stanno proprio Giocando benissimo Vuoi di Che ci mette Sto Mortis Così ci ha regalato Uno spettacolo Pazzesco Sì Cioè Diciamo che Gli avversari Vevano soltanto Brock che spacca Addirittura Quasi la mezza Confermano La No vabbè no Ok no Proprio confermata No Oddio no In realtà cambia solo Colette però Colette per Brock E basta Quindi non hai più Neanche nessuno Per spaccare Beh Però da parte Delle SK È sparito Mortis Eh sì 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 È messo anche il Pocho Non mi piace Moltissimo Sta comp E Infatti Arriva il gol Pulito Non mi piace Moltissimo Sta comp Tu già hai visto il gol A quanti Uno di sei Mi sa che devo mettere Il per due Io stavolta A quanto sei È a forza di fare Io sto a 1.40 Eh ma mi si Mi si blocca Ripa Allora Non so Cosa c'è Hanno appena segnato Ha segnato che sì Quindi 2 a 0 Sì 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 Quello anch'io l'ho visto Ok 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 Quindi Code Magic Ragazzi che rimettono A pari la situazione In football E Quindi occhio 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 Qui forse hanno un po' Esagerato troppo Ma Diciamo che prima I Code Magic Allora Non mi dispiaceva Neanche la comp Di prima Dei Code Magic Il problema è che Tante volte E Tante volte Si ris Cioè Il team Che non utilizza Tutti quei tank Prende subito Il gol Succede quasi sempre Prende subito Il gol Poi appena si spacca Un po' la mappa Ribalta la situazione Invece in questo caso I Code Magic Per non prendere subito Il gol Sono andati subito Sulla difensiva Non so se ci hai fatto caso Hanno subito arretrato tutti Per cercare di difendere Il gol Io più che altro Ho visto una cosa Che magari condividerà Cioè sicuramente Il posizionamento Che dice È corretto Ma il poccio Effettivamente Quanto ha fatto Il suo Quanto è che ha curato Effettivamente Quel poccio Eh no Sì È vero Poco Ah qui tra l'altro Scusate È già partita È più forte di me Allora E la Jackie Questa volta viene scelta Dai Code Magic E di là invece Viene tolta Tistitrick qua Fa una kill Pazzesca ragazzi E 1-1 A kill e twisty Eh sì però Eh no Non si killano Non si killano Tornano i compagni Ok Skyrix preferisce Mettere la palla lì Per provare a Gestire Uh Bello qui Il push di Sam Bentley Errore da parte Di twisty Sulla ultima C'è la potenza Deve fare gol Da parte Di Casey E lo fa Sì 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 Bravi 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 Qui il push di Sam Bentley Anche con poco vita Ha portato Un buon risultato Ah guarda No non ci credo Questo è calcio Oddio che gol è uscito Ragazzi qua Questo è calcio Che spazio che ha beccato Questo è calcio Ragazzi eh Cioè Abbiamo proprio visto Un centrocampista Che lancia sulla fascia All'esterno Ma che gol C'è tentato Raga Oh mio dio Guarda 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 Sam Bentley Se ne frega Dell'avversario Ah addirittura Ha usato il gadget Per spingersi su Sì sì Eh guarda C'è un po' rimasto Skyrick Guarda 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 Twisty Guarda Twisty Guarda Twisty Twisty spaga qualcosa Facendo di no con la testa Il buono vuoi di Raga ma lo sta Cioè Dopo una giornata del genere Chi non ha lasciato like Adesso deve controllare Di aver lasciato like E se non l'ha fatto Lo deve lasciare Ragazzi mi raccomando Lasciate immediatamente Un bel mi piace Vi ricordiamo ovviamente Iscrivetevi Ai canali Iscrivetevi al mio canale Se ancora non è stato fatto Iscrivetevi al canale Del Buonferre C'è il link in descrizione Se ancora non è stato fatto Domani Vi ricordo che la fase finale Di queste finali Saranno sul canale Grax Saremo io e Grax A commentarle sul canale Grax Quindi mi raccomando Vi aspettiamo domattina Dalle 10 appunto Sul canale del Buon Grax Oh yeah Ma Grax quello vero? Il Grax quello Grax quello vero Esatto Il Grax quello vero E attenzione Perché qui il doppio pocio Invece lo vediamo Utilizzare dai Code Magic Sì il doppio pocio Il tank Il pocio doppio tank Ce la farò prima o poi a dirlo E vanno immediatamente In goal Sì ma Cosa sta facendo Gli SK Gli stiamo perdendo Deve non rimettere Mi deve rimettere Mortis qua Vanno a momenti Guarda qui tutti e due Sinceramente Dai Cioè ma no Non si può così Raga Sì 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 Assolutamente Assolutamente Vanno a riprendersi il pareggio In Non abbiamo più Allora In goal ball Diciamo che quel Mortis Te lo puoi permettere Soltanto Anche se YD Ce lo scrivono tra l'altro Anche dalle Da dietro le quinte Che ovviamente è uno dei Mortis Più forti al mondo Non l'hanno ritentato E secondo me Ci può anche stare Perché i Code Magic Hanno utilizzato poi Tutte comp Che counteravano Che counteravano Un po' anche le giocate Del Mortis Però Pazzesco Ragazzi Pazzesco Uno pari Mamma mia Che partite Mamma mia Che comunque Che azione Vediamo un po' Le statistiche Comunque sono super A favore Super A parte Sono abbastanza a favore Sì Abbastanza Di Code Magic Ma sta Stato di Leon Ma ma Tanto Poi dopo sta finale Non la usate più Che bella Andatemi la casa Ce la faccio stare lì No Ma guarda Hanno messo I stemmini Dei team Che vincono Nei vari mappe È quello che le dicevo Io prima Cioè Quando le ho detto Il logo della squadra Che si stampa Sul badge della mappa Intendevo quello Ah Quello che le avevo detto Prima Con i PSG Avevo capito un'altra cosa Eh ma non è Le lo dovevo dire io Quando proprio Successa la cosa Ok Sì ma ci sono tantissimi dettagli Tipo Dietro Fan vedere la mappa In questo momento Però sotto il primo Fan vedere anche Beh in questo caso D'entrambe le parti Fanno vedere anche Il beggione Della modalità Grosso Sì Ma questo l'hanno fatto Anche prima in Bounty E in Foot Brawl E fanno vedere Il beggione Della mod È vero È vero Ma lo sai che effettivamente Il gadget di Be In questa mappa Ti può permettere Di non utilizzare Il lanciatore Io in questa mappa Il gadget di? Di Bea In questa mappa Sono sempre stato Un Sì Grossissimo Estimatore Dei lanciatori Secondo me Sono fondamentali Però se tu utilizzi Barley ci sta tutto Sì Assolutamente Però se tu metti Un Brock Che ti spacca Una Bea Che utilizza Quel gadget Puoi anche far meno Del lanciatore Cosa è Secondo me Perché i gadget Perché i gadget Hanno sempre Il solito problema Hanno trautizzi Bea magari Nella prima fase Della partita Ti tiene un pochettino Sti muretti Cioè ti colpisce Altri muretti Nella seconda fase Brock ha rotto E quindi si gioca Esatto Infatti ti serve Il Brock Se non ci fosse Stato il Brock Ovviamente No C'è un 8% Da parte Di vantaggio Da parte Delle SK Bisogna capire Effettivamente Se Riescono A tenere un controllo E sembra Di sì Al momento Per adesso Lasciano praticamente Il Code Magic Con un solo Bulloncino Quindi veramente Un dominio Completo E Ascaris Qua va giù E Twist Riesce a prendere Un bulloncino No Sicuramente Importante no No Esatto Lo avevo parlato Signor Gigi Sto zitto Non dico Basta Va bene Ah di no C'è un bel push E Diciamo che si possono Permettere anche Di non fare danni O comunque Di farne pochi Non è un problema Per loro Sì perché Tantano il controllo Della mappa Diciamo che I Code Magic Sono andati Con una comp Un po' più classica Mentre Gli SK Hanno tentato Un po' La comp Del meta Cioè Bea, Card, Brock Hanno proprio Sfruttato il meta Sì 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 Qua hanno proprio Sfruttato il meta Pieno Ma ti dico Io la differenza Più grossa L'ho vista Nella partita precedente Time Brawl Ball Proprio sulla Geki Cioè io credo Che i Code Magic Abbiano usato Proprio Geki A un altro livello Rispetto a SK Pure Nel primo game Quando l'SK Hanno vinto Ho visto In una difficoltà Bestiale Mi sembra Achille Che utilizzava Che utilizzava Geki Invece qua ragazzi Gli eroi sono un po' invertiti Sì 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 Devo dire che Hanno sofferto Tanti i Code Magic Non si sono riusciti A portare a casa Non più di due Tre bulloni Quindi Già questo La dice È molto lunga Sulla partita In generale Possiamo dire Tranquillamente Che è stata dominata In lungo e largo Dagli SK Come stavamo dicendo Prima Hanno sfruttato il meta E qui arriviamo sempre Un po' sul discorso Che affascina La mia mente Quando vede queste cose Allora Tu adesso hai utilizzato Il meta E hai stravinto La partita Confermi la comp O sapendo che anche Gli avversari Andranno a cambiare qualcosa Cerchi di Ricounterare La scelta Degli avversari È un po' Il solito discorso Confermare la comp Secondo me A questo livello No No Perché Sai già Che gli altri Che hanno perso Così Non ti metteranno La stessa comp Eh sì Esatto Esatto È quello il discorso Capito Cioè Boh Vedremo No Secondo me Non cambiare comp Non è un'opzione Cioè proprio Non è un'opzione Vediamo Vediamo Perché con Io stavo un pochettino Provando a ragionarla Me la stavo un attino Provando a ragionare Su quali potrebbero essere Quei brawler Che in questo momento Tu dopo una comp meta Con cui hai dominato Puoi mettere Per Ribaltare la situazione Eh Però in una mappa Del genere Spike Mi viene L'unico che mi viene in mente Oltre gli altri Che hanno utilizzato Qui Eppure Spike Lo sta avendo poco Il signor Gigi Devo dire Allora guarda Gli SK Confermano la comp E Secondo me Però qua Avranno sicuramente Più difficoltà Oddio Non è detto Però Avranno Probabilmente Eh guarda Lo San Bentley Che va a far Gia la kill E qua Gia il vantaggio Si sposta un po' Non capisco Perché oggi Mi sta andando Sempre indietro Ma non capisco O faccio un change Di connessione Ma non so Se può essere Quello il problema Non lo so Non lo so Se è correlato Forse Boh Comunque Io ti dico Che questa pure Andranno a vincere Molto probabilmente Gli SK Gli SK Siano ancora un vantaggio Io non ho capito Il confermare Quel bombardino Ti dico la verità Non l'ho capito A quel punto Avrei provato Un altro lanciatore Ma al bombardino Non l'avrei confermato Cioè secondo me È stato il grosso problema Della partita di prima Avrei tentato Un semino Un tic A quel punto Però Bombardino Di nuovo confermato No Non Non mi convince Non lo so Non lo so Anche No io qua Sinceramente Ci vedo Brock e Carl Ma Il broler Che forse sta facendo La differenza È quello che è appena Andato giù È la Bea di Skyrix Sì 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 Quella lì Ha fatto proprio La differenza Quella sicuramente Perché vediamo Allora adesso Hanno richiamato Il robottone Uno può dire Ok ottimo Sì però Hanno Non hanno Nessuno che gli sta Andando a dare supporto A quel robottone I bulloni Sono in vantaggio Gli SK Che adesso torneranno Con la Bea E potrà tranquillamente Secondo me Provare a riprendere Il centro Cioè adesso Devono fare Vedi è andato giù Anche San Bentley Perché Bea C'ha la vita Troppo facile Sì 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 Con Bea tu counteri Ovviamente Sei giocata bene Sia il Brock Che il Carl Perché c'ha quel colpo Più veloce Con cui tu riesci A mettere Bea è uno di quei Brawler Che Quando ha avuto Il nerf Il nerf Lei se lo ricorderà Mello di me Della rimozione Dello scudo A ogni respawn Sembrava veramente Sembrava veramente Disintegrato E invece guardatelo oggi Ragazzi Quanto Guardatelo oggi Posso dirlo? Melanzana signori Melanzana Melanzana È arrivata È arrivata Chissà se vedremo Un peperone Oggi Eh sarà difficile Allora Dovremmo vedere Assedio Nella partita Ah no Però i Nova China Hanno già giocato Non lo so Perché ribadisco Io ripongo Grosse speranze Negli americani Ci possono far divertire Nel senso positivo Del termine Che ci buttano fuori Sto peperone No 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 Nel senso che La Rendono la partita Combattuta Capito E quindi non Non ci regalano Il peperone Di solito il peperone Devi proprio dominare La partita Eh non è detto Deve pareggiare In realtà è proprio Quando la partita È combattuta Che arriva il peperone In genere Quando è dominata Arriva la melanzana Il peperone Arriva quando è combattuta Sì 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 C'è Sam Bentley Che Non approva Neanche la poltrona Serve più per tenerlo tranquillo Non approva Non approva Non è È veramente Furibondo ragazzi Sì 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 Stavano Comunque sono dei Personaggi Con la poltrona Guarda Vedi Te l'ho detto Non ho capito Perché non l'hanno fatto Nel round precedente Sinceramente Questa è davvero Un'ottima comp Per sta mappa Questa è davvero Un'ottima comp Raga Io a questo punto Dato che siamo A pochissimi like Dei 15.000 Tenterei anche I 15.000 mi piace Se ancora non l'este fatto Lasciate sto bel like Ricordatevi di iscrivervi Al canale Perché prossima settimana Grosse novità Con il nuovo Brawl Pass E tante altre cose Quindi iscrivetevi al canale Per tutti i contenuti Ovviamente passate anche dal Buonferre C'è il link in descrizione Vi ricordiamo che le finali Le semifinali E la finale proprio Domani sul canale di Grax Oggi qui finiremo di vedere I quarti di finale Dopo questa ci saranno Altre due partite Pazzesche Quindi rimanete incollati Qui con noi E vi ricordo Per shoppare il Brawl Pass I vari codici creatori A seconda di chi Volete supportare La cosa importante È che ne inserite almeno uno Così qualcuno lo supportate Che può essere il mio E che non inserite Magic Perché non è un codice Ricordiamo ragazzi Non inserite Magic Perché Code Magic In realtà non è un codice Ma detto Ferre Ovviamente Ovviamente Codice Ferre Codice Grax Mi raccomando Ragazzuoli Supportate questi fantastici Caster Che vi accompagneranno Nella visione Di queste fantastiche finali Di Championship E io ti dico Che questa comp La sanno usare meglio Ovviamente i Code Magic Perché si vede Che se l'erano preparata Oh yeah Oh yeah Sì Infatti questo Che volevo dire prima Secondo me Il Code Magic Oddio Aspetta un attimo Forse È appena arrivato Un robot da parte Degli SK No 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 Hanno chiuso la partita Signor Ferre È finita Hanno vinto gli SK Non dico niente Meno male che non ho detto niente Mi sono interrotto Prima di Ma allora Io leggo molti in chat Che ti fanno per gli SK O chi ti fa per i Code Magic Io Allora sinceramente Rimarrei davvero Molto dispiaciuto Per i Code Magic Perché io ricordo Che è l'unico team Che si è sempre Qualificato A tutte le finali Della Championship Mensile È l'unico team Ragazzi Eh ma è anche lì Che c'è Perdonami lo spettacolo Nel senso No assolutamente Non te lo aspetti Che un Code Magic Perde Poi magari non perde Però comunque Vedere in difficoltà Solamente Cioè No 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 Ma infatti quello dicevo Cioè Mi dispiace Per lo spettacolo ci sta E tra l'altro Vanno a perdere Contro gli SK Che sono il team Che se ne sono rischiata Alla fine contro i Tribe Perché alla fine della fiera I Tribe Sembrano addirittura Il team più forte Perché erano quelli Che stanno iniziando a battere Sempre tutti e comunque E invece gli SK Dato che sono stati Un po' più costanti Durante tutto l'anno Sono arrivati in finale Adesso stanno andando a battere Quelli che sono Ehm Diciamo Quelli Più avvantaggiati Per la vittoria finale Quindi Peccato 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 Per i Code Magic Ovviamente Ma come dicevi giustamente tu Signor Ferre Per lo spettacolo Una vittoria SK Sarebbe Sarebbe gradita Sarebbe tanta roba Sarebbe tanta tanta roba Signor G Siamo su Canal Grande Qua comunque Se la stanno Se la stanno giocando Fanno una win Una win E una persa testa Tranne Assedio Assedio è stata letteralmente Dominata dagli SK Mi sa tripla vittoria Una dietro l'altra Assedio è stata Decisente dominata Qui Twist addirittura Va nella base avversaria A farsi la kill Sky No io dicevo di 7 Io mi riferivo ai 7 Ah i 7 Ok Sì 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 No perché comunque Se ci pensi anche il singolo 7 È un po' sempre Vinco perdo Vinco perdo Invece Assedio è stato Decisente Sì l'ultimo l'ha proprio dominato Sì Guardatelo Skyrix come È proprio in spawn Enemico Sì 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 Però È andato a morire Perché Casey è riuscito Molto bene a farlo fuori Un po' azzardatino Questo doppio tank Pocho Però attenzione Perché sappiamo che Se gestita male Ricercati Può regalarci gioie Fino Fino alla fine Quindi occhio Infatti qua si va già sul 7-3 Attenti Perché se Pocho Pusha insieme A tutti i tank Sono molto compatti Sono molto compatti E Qua Non sono schiacciatissimi Cioè 12 bari Veramente provano Un gran push Alla ulti Per Skyrix Possono chiudere Completamente Fare addirittura Un full team Non si ferma Neanche con le bombe Ragazzi Stai indietrissimo Signor Ferro No Non lo so perché Non capisco Perché fa così Non lo so perché Assurdo Però così Non era mai successo Cioè di solito succedeva Uno o due volte Al live Invece così Quasi ogni set Ogni partita Un push Un po' esagerato Forse la parte di twist Ragazzi Non lo so Mancano comunque 5 secondi Adesso tenteranno Eh vabbè ok Forse possono star tranquilli Sì ok Se le sono rischiate God Magic Ragazzi Perché gli SK A un certo punto Hanno fatto quel push Che Li ha davvero spaventati Quel push Secondo me Li ha davvero spaventati Però Ce l'hanno fatta Ce l'hanno fatta comunque Ragazzi God Magic Si portano a casa Questa prima partita Di ricercati E vediamo un po' Ragazzi Vediamo un po' Cosa succede Sì ragazzi Allora la reazione è gratis Per tutti quelli Che ancora hanno capito Come funziona Ora vi spiego bene Com'è Voi appunto Entrando in app Dovete premere su guarda Ci guardiamo insieme Appunto queste finali Della championship E poi prossima settimana Vi verrà consegnata Questa spilla Questa reazione Gratis Oh yes Yes Detto questo Molto molto bravi Qui in ricercati Quindi quella cosa Che diceva lei prima Che tutti i brawler Spariscono Non è vera Sto scherzando Sto scherzando Però aspetta Perché io prima Quando ho chiesto 15.000 like Non stavo scherzando Eh raga Cioè siamo ancora Sotto i 14.000 Siamo ancora Sotto i 14.000 Ragazzi Mi raccomando Lasciate sto like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Mi raccomando Ragazzuoli Fondamentale Passate al signor ferro C'è il link in descrizione Oh yeah Doppio Doppio cambio di comp In mezzo Doppio cosa Stavo per dire Dopo che Dopo che Doppio cosa No raga Pazzesco Cioè Io non ho capito Il cambio dei code magic Sinceramente Non mi piace Questa comp A Gigi A Gigi Non piace Questo elemento Signori No esatto Dislike Per la comp Di code magic Sinceramente Eh Dislike Per una Dei code magic Che però Non sta Andando poi Così male Oddio Sono sotto D1 Sì Ma stanno Stanno perdendo Anche Stanno perdendo D1 Però Non hanno minimamente Il controllo Della Della cosa Stanno avvolgendo Letteralmente Le SK Guarda Guarda Il push Di YD Mamma mia YD va giù Eh Non lo so Perché Allora Anche la comp Io Non l'ho capito Ste due comp Sinceramente Tutte e due Perché ok Mr. P Però accompagnato Dal broc E Gigi Boh Di là pure Accompagnato Sempre dal broc E dal tic Non lo so Non Non lo so Non mi convincono Nessuna delle due E quella che mi convince Meno è quella Dei code magic Infatti sono di nuovo Chiusi Boh Cioè Non hanno Nessuno Che fa Quel danno Importante Capito Cioè C'hanno Tutta gente Che sta lì Hitta Ma non fa Quel danno Importante Cioè Avrei preferito Quasi una Piper Al broc Magari O Non lo so Non lo so Questa Persa Totalmente Di comp Secondo me Con delle scelte Abbastanza Bruttine Eh sì Eh sì Eh Vanno La vanno a perdere Così Però Cioè Per carità Tutti i brawler Che ci stanno In questa mappa Tic ci sta Mr.P Ci sta Brock ci sta E insieme Il problema Cioè Tu non hai Nessun brawler Che può andare A concludere I danni Che fai Cioè Con Tic Fai danni Ma con chi Concludi Con Mr.P Vediamo anche I replay In cui erano Veramente Schiacciatissimi A un certo punto Cioè Nel senso Loro Secondo me Se la volevano Giocare così Sbloccare la ulti Con Mr.P Chiudere Grazie all'aiuto Dei robotini Mr.P Gli avversari E poi andare Con Tic E chiudere tutti Mo qui San Bentley Si sta Oh si sta alzando San Bentley Ragazzi Si sta alzando San Bentley Cosa fa? Si sta alzando Ragazzi Attenzione Va a prendere Ah no Ok si è riseduto No no Si si è riseduto lì Mi ero preso paura Anch'io signor GG Comunque Era partito ragazzi Era partito Signori Ok Comunque ragazzi Sto studio Che cambia colore Dobbiamo parlare Pazzesco Spike non lo stanno usando Ma lo studio Ha diventato Di colore Spike Oh E io già vedo Ah doppia Doppia B Doppio Block Doppia Piper Qua si gioca Uno sconto Tutto l'uomo Ah Twisty ha sprecato il gadget Twisty ha già sprecato il gadget Cosa che non ha fatto Assolutamente Sam Bentley Uh Vuoi dire Rischial Piume No che si Mamma mia Con 280 Usare quel gadget Che appena ti uccidono Lo sprechi Diciamo che Sam Bentley In questo caso Sta carriando Eh Sam Bentley Sta decisamente carriando In questa fase Della partita Perché Twisty ha sbagliato Un gadget Che si Si ha messo One shot Ok Però pure lì Ha rischiato Ok Ottimo colpo Ancora parte Sam Bentley Uh Che colpo Raga ma Si vede che Sam Bentley Ha cambiato posizione Si è messo un po' Più comodo Eh Eh raga No Io l'ho visto adesso Non capisco Nel dove in avanti Ha fatto un colpone Col gadget Ha fatto veramente Un colpone Mamma mia L'ha andato a uccidere Ha fatto veramente Un colpaccio Cioè raga Non è mai morto E sta hittando Con ogni Con ogni colpo Again Mamma mia Pazzesco ragazzi Ha fatto la kill Su Brock E niente Va ancora sull'altra lane Pazzesco Ragazzi Si è alzato Sam Bentley Si è alzato Si è alzato Sam Bentley Ragazzi Pazzesco ragazzi È tirato su in piedi Regà Eh si Direi proprio di si Direi proprio di si Mamma mia Ragazzi Che cosa ha tirato fuori Sam Bentley Da sta partita Però devono stare attenti Deve stare attenti C'è un'consterazione Sulla cabeza Eh ma devono stare attenti Perché con 7 stelle Prendi gli SK Pareggiano E Sam Bentley Ha 7 stelle Ok Attenzione Possono andarla a perdere Possono andarla a perdere Madonna quanto hanno rischiato Sempre Sam Bentley Ha fatto la kill Ma è rimasto con 200 di vita E quel meno 7 avrebbe Infatti si è tolto gli occhiali Si sta un attimino Ricomponendo Ma regà Qui Sam Bentley Ha preso Che si di peso Ha preso Twisty tweak di peso L'ha messi sulla cariola E si è messo a correre Ragazzi Pazzesco Si l'ha cariata L'ha cariata lui decisamente L'ha cariata lui decisamente Ehm Mamma mia ragazzi Che roba regà Cursed ce lo stiamo chiedendo Un po' tutti ragazzi Ce lo stiamo chiedendo No beh Oddio Mi chiedono se Se Rico work Oppure qua No ragazzi Rico qua non work Ah obiettivamente Canale grande no Canale grande no Qua possiamo dire Tranquillamente di no Ehm Comunque ragazzi Sam Cursed non si sa Hanno ritirato fuori Casey Perché ricordiamo ragazzi Prima che i Code Magic Prendessero Twisty tweak Il trio Titolare era Casey Sam Bentley e Cursed Ha sempre giocato poi Twisty tweak Al posto di Casey Tranne un paio di giornate Che magari hanno cambiato Perché tanto ormai Erano qualificati Ragazzi God Magic Se sono qualificati Tipo mesi fa Perché hanno Se sono sempre qualificati E Invece Adesso Siamo andati a vedere Un Riposizionarsi A parte di Casey Chissà perché Daish Un bacione Grazie il vero di cuore Per l'abbonamento Benvenuto agli abbonati Oddio Mortis Mr. P Ehm Brock Ah ti posso dire Che mi piace Più questa comp Con Mortis Rispetto a quella Che hanno fatto prima Con Tiki God Magic Perché Ehm Almeno Mortis Quando lasci qualcuno One shot Te lo push E lo finisci Ci sta Ci sta Questa comp Degli SK Mi piace decisamente Di più Oh yes Oh yes Tra l'altro Intanto E' il buon twist Il buon YD Che ci mette Il sombratisio Si 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 Ma è lo spettacolo Che volevano dire tutti Ragazzi Almeno una partita E questa che è già la seconda Di YD Con Si 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 Con Mortis Cioè ragazzi Guarda 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 No L'han fatto fuori Però forse riesce Mr. P Si sono salvati tutti Ah no Ok è morto E ok Adesso anche che si Andrà giù Regà Cioè se si salvavano Tutti e tre lì Erano D'ora in poi God Magic Li potevamo tranquillamente Chiamare gli immortali Cioè Erano Erano schiacciatissimi Eh sì Erano veramente Schiacciatissimi lì Occhio eh Occhio Occhio qui Arriva Comunque la kill Attenzione Twist rimane One shot Eh il Mr. P Sta dando parecchi problemi Io Sinceramente Magari al posto Della Piper Avrei confermato La Bea Ovviamente Poi a parlare dopo È sempre facile Perché magari Gli avversari invece Facero un altro tipo Di giocate Ok Mamma mia Qui che brava kill Però Boh Non lo so ragazzi Bea Nei momenti difficili Mi sembra sempre Un po' più Sul pezzo Di Mamma mia Qui YD Prova giù Eh Gli ha detto bene Qui a YD Perché se l'era rischiata Qui gli ha detto bene A YD Perché i God Magic Avevano pareggiato E il compagno Gli ha ucciso Quelli che lui aveva lasciato One shot Ma qui YD Aveva rischiato Davvero tanto Eh Attenzione Attenzione Ragazzi Attenzione Perché Gli SK Hanno il match point Regà Eh sì Possono andare A vincere Guarda Guarda San Bentley Come Hanno Sai cosa si stanno dicendo Veramente Sarà bellissimo Sentirlo Non lo so ragazzi Ma Mamma mia Match point Per gli SK Si alza di nuovo San Bentley Non ce la fa più A star seduto Non ce la fa più A star seduto San Bentley Eh certo Che è pesante Le cuffie Si ha messo le cuffie Twisting non c'ha più L'immagine No regà Questi si sono messi Con gli asciugamanini Ma fatelo prima Ma state alle finali Ma state scherzando Ma veramente Cioè Eh San Bentley Ha cambiato Le cuffie Twisting ha tolto Tipo l'immagine Non so che cavolo È andato a fare Cioè tu ti stai giocando C'hai il match point Per gli avversari E te la giochi così Nooo No ragazzi Nooo Ma che fanno God Magic Con Mortis Ma che hanno fatto Ragazzi Ma perché sta scelta Signor Gigi Non ci capisco nulla Allora Basta Io non capisco Non ci capisco più niente Cioè Sembra quasi una resa Più che altro Ma Twisting Che con Mortis Sta Nooo Ragazzi Vederli Perdere così Vi giuro Boh Mi dispiace proprio tanto Randomino Grazie dell'abbonamento Un bacione Grazie di cuore Ma perché sta No No raga No Non lo so Boh Cioè Vi giuro Ragazzi C'è C'ho il cuore in gola Per loro C'ho veramente Il cuore in gola Per loro Ma secondo me Vabbè Non lo so Non lo so Non lo so No ragazzi No Boh Ragazzi Cioè Boh Cioè Non so che dire Neanche NZM Grazie dell'abbonamento Caro Un bacione Non ci credo Non ci credo Raga Qua in SK Io guarda Non In video In video Chi vedrà la live domani Signor Gigi Chi Ollo Chi castellarà la live domani Perché Eh no Lo so Non per ora No raga No No Perché Ma non capisco Vuoi di cosa sta Cioè perché Cosa è successo Guarda 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 Lo sanno Perché lo sanno Perché hanno battuto Quelli che gli potevano dare più fastidio Cioè questi loro l'hanno vissuta come una finale Ma gli God Magic No raga Cioè gli God Magic Sono venuti in ciabatte Boh ragazzi Io sono senza parole Non ho Sì Yoshi Sono anche d'accordo su quel discorso Però Perdere così Cioè Sono talmente dispiaciuto io Che Vi dico la verità Desta partita non me ne fregava niente Perché io sono contento Giusto se vincono I clash Perché ovviamente Cuore italiano Anche se il roster è completamente spagnolo Però Vi giuro che Guardalo 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 Ti credo Cioè È questo il discorso Cioè è questo Guarda no Almeno WaiD Ci ha fatto un mezzo sorriso Però sono Ma sono in loco in qualche modo Perché sono insieme Non lo so Fata Grazie per l'abbonamento Si è alzato E' andato a battere E' andato a battere 5 Un saluto al Fadone Un saluto anche al Randomino I nostri carissimi mod Ah Grandi ragazzi Un bacione Un bacione speciale Perché questi ragazzi Mi danno una mano Impressionante Sono un po' come la Come Serena per te Sì Sì Serena Davide Giulia Grazie davvero Sì 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 No assolutamente Noi dovremmo fare una statua I nostri moderatori Ma no raga Cioè ribadisco Io più o meno ero Non vedevo l'ora di vedere Questa partita Ma proprio per questo No Cioè E' come vedere Una partita Di calcio Dove c'è il favorito Che Dico Non te ne frega niente In realtà Però magari dovete perdere Perché fa la paperata Al portiere Perché fa un fallo stupido Il difensore Cioè Una situazione del genere Capito Nel senso Abbiamo avuto anche Degli SK Che ha giocato Gigi No allora Per carità Ha giocato Guarda 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 Chi è Guarda Chi è L'EVT Per carità Per carità Il buon YD Due volte morti Per carità E anche sì La nuova entrata A New Entry Marina Che in realtà E' una mezza A New Entry Perché c'è da Vent'anni Però Cioè Per carità Cioè Gli SK Scusa Non ho capito Chi è No no Marina Sempre tra i moderatori E Sempre il discorso Dei moderatori No Dicevo Cioè I Code Magic Cioè Allora Sicuramente i Code Magic Erano i favoriti Gli SK Era l'altro team Che secondo me Poteva dargli più fastidio Perché I Clash Ultimente L'ho visti bene Ma ho visto meglio Gli SK Dei Clash Nelle ultime uscite Poi sono passati due mesi Può essere successo Qualsiasi cosa Addirittura in Italia Nei WC Abbiamo visto ribaltarsi La situazione Dopo due settimane Per dire No Quindi Pensa in due mesi Con tutti i cambi Dei bilanciamenti Con tutti i cambi Delle cose Le mappe Eccetera Però Ultimamente Gli SK Gli avevo visti Parecchio carichi Però Secondo me I Code Magic Se non c'è una pubblicità Non so se la vuoi Annunciare lei Gale Force wins Va bene Un altro spot Ragazzi Un altro spot Nova Was here Che i Nova Ragazzi L'anno scorso Hanno vinto Il mondiale Che è Il gadget Di rosa Nova Perché sono Come se fossero Dei tempi Dei tempisti Sì esatto Esatto Cioè Niente Niente Signor Gigi Era Era da Ragazzi Ricordiamo Degli spot Che ha fatto Supercell Così Vabbè Scusi signori Mi diceva Sul team Sullo SK Sì dicevo Gli SK Signormente hanno giocato bene Perché 3 a 1 Contro i Code Magic Se non giochi bene Errori o non errori Della Della comp Vinci Cioè Per esempio In assedio Hanno dominato Gli SK Secondo me Perché i Code Magic Hanno messo troppo tardi La comp giusta Però anche quando hanno messo La comp giusta Gli SK Hanno comunque dominato Però Qui In ricercati Ora Per carità Io so l'ultimo Può parlare Soprattutto dei Code Magic Che hanno dominato in Europa Per tutto il 2020 Perché Anche se magari Non vincono queste finali Secondo me Il team che ha dominato in Europa Il 2020 Sono stati i Code Magic In lungo e largo Ma comunque A parte questo Cioè Hanno sbagliato Due volte Due volte La comp Clamorosamente Cioè Io non so cosa sia Perché E poi E' anche quello Il bello Di sapere cosa si dicono In chiamata No Perché E' ovvio Non è che hanno fatto Quella scelta Sapendo di sbagliare Cioè Dentro la loro testa C'era una determinata cosa Che sarebbe dovuta succedere Per cui poi loro avevano La vittoria in pugno Se dovesse Poi Se appunto Sarebbe successo Quello che volevano Che accadesse Però Hanno fatto Due o tre volte Anzi no Due volte In particolare La scelta di comp Sono da me a caso Quando hanno messo Mr.P Con Tick E Brock Per esempio E adesso Il Mortis Allora Sulla Sulla scelta Di Mr.P Io Non commento Perché sinceramente In quel momento Avevo dei problemi Problemi tecnici Proprio con la visuale Non riuscivo A starti dietro La scelta di Mortis Invece Secondo me È stata palesemente Un rinunciare Un gettare la spugna Sì Però che faccia E quella è la cosa più brutta Che può succedere Durante la finale mondiale Il bello di Brol Però è quello Che gettano la spugna Cioè vuol dire che Sì Sarai il team più forte Ma a livello di mentalità È ancora tanto Su cui lavorare Però non lo so Allora io ti dico Secondo me no Cioè Secondo me non è stato Un gettare la spugna Perché Cioè su Brawl Non puoi permetterti Io la vedo così Ma secondo me Si aspettavano Un semino Ti dico la verità Io Secondo me Loro si aspettavano Qualche brawler Da poter andare a counterare Con il Mortis Perché Ora vabbè Contro avevano Magari Magari Hanno puntato Su qualcosa di Completamente Completamente Diverso Sì Anche se io avrei Confermato Sempre la stessa Comp con cui Stavano giocando Però secondo me Si Hanno Hanno tentato La giocata Cioè comunque Mortis Con i nuovi Gadget Ne ha di Brawler Che può Counterare Anche in quella Mappa Però Non ci sono Riusciti Fondamentalmente Non ci sono Riusciti Intanto abbiamo I ban di Ambra e Carl E tra l'altro Signor Gigi Vogliamo dire Per chi facciamo Il tifo Qua noi Qui tifiamo Per l'ins Ragazzi Perché c'è L'italiano Ma lo sai Che non l'ho visto Dere titolari Però mi sembra Ma l'ho visto Che commentava Comunque Quindi non so Vediamo Vediamo Matti Grazie per l'abbonamento Vip addirittura Un bacione Grazie a vero di cuore E attenzione Perché abbiamo Prateria dei serpenti Prateria dei serpenti E mancano 25 like Ai 15.000 Mi piace E per Prateria dei serpenti Non potete Non lasciare like E non potete Non iscrivervi Al canale Se ancora non l'aveste fatta E non potete Non passare da Ferre Che c'è il link In descrizione Mi raccomando Ragazzuoli Mi raccomando Mi raccomando boys E ovviamente Vi ricordo che domani Ci saranno poi Le finali Di tutte queste partite Stiamo vedendo Quindi il primo match Di domani Sarà penso A questo punto Hanno spento lo studio No È vero Le luci sopra Anche sotto Zì Oddio sotto Tutto Aspetta tutto Scusa Aspetta tutto Basta Se ne vanno Se ne vanno E Ma che ci gioca Vediamo un po' Abbiamo Iris Tarabo Ma perché stanno giocando Tutti separati Non ho capito Ma perché Non hanno piazzato la torretta Soprattutto Cioè stanno giocando Con Iris Che va tranquilla In giro Ah no L'hanno piazzata Ma era Iris Che è andata a dare Una mano allo start Comunque È grossissimo Problema Secondo me Che Supercell Deve fixare Oramai Ci siamo È Introdurre Negli overlay Non solamente La star power Che stanno utilizzando I player Ma anche il gadget Ma io credo che per la prossima Championship Lo avremo eh Eh sì Io credo che per la prossima Championship Lo avremo Questa volta Le perdoniamo Perché Comunque sia Ci manca ancora Eh va bene Ci manca ancora Tanti gadget Ma dalla prossima Che stiamo facendo Signori Signori della corte Per favore Intanto Trash Luke Grazie mille dell'abbonamento Un bacione Ma lo sai che Stavano spinnando In un momento In cui gli avversari Non li vedevano Gli ins Sono spettacolari Ragazzi Sono un po' subdoli Eh ma perché Comunque c'è questa Vena italiana Sì Questa Questa Mela marcia italiana Non sta Non sta giocando Consti Ma sai non lo vedremo Perché se perdono subito Contro gli Jupiter Che sono I favoriti Non lo vedremo No io Io Me la vedo Me la vedo Giocabilissima Da parte Sì Assolutamente Anche perché Sto avvenendo Anche se stanno Vincendo 16 a 6 Ho visto un po' Di errori Da parte Di Jupiter Che non mi aspettavo Vediamo Vediamo se Se la riescono C'era Ah C'è Marcel Però Marcel è proprio Lo spettatore Sì Marcello è il nostro eroe È più Marcelle Che Marcelle Un po' Un po' Già stanno festeggiando A Diego subito Sì Hanno vinto La prima del primo set Ah no aspetta Innova Innova Io mi sarei aspettato Che a un certo punto Partivano e facevano qualche gesto Tipo così Ah sì sì Tipo le loro coreografie Coreografie cinesi Madonna regale Ma ti ricordi La Quella cinese Dove Cioè La fase Quella solo cinese Che tipo Loro avevano Diciamo La reazione Di quando vincevano Che tipo Stavano così Che facevano cose Quando perdevano E quando E quando pareggiavano C'era pure quella del pareggio C'era Sì 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 C'era pure La La posa da pareggio Allora C'era pure una posa da pareggio Mattias chi è? Cioè Guido Marcel Consti E Mattias Evidentemente la riserva Che è al posto di Ha tenuto fuori Consti C'era una cosa impressionante È incredibile Io approfitto di questo minuto Per assentarmi un istante Signor Gigerio subito Allora Vabbè Allora per quello che devo dire Aspetto Aspetto che ritorna Perché ho una Ma io la sento Io ce l'ho in cuffia Ah ok Allora ragazzi Mi scrivono Mi scrivono Dalle retrovie Sempre molto Attenti e preparati E soprattutto Ci fanno sapere queste chicche Che a me e al signor Ferre Fanno impazzire Consti È di origini italiane Il nonno Lo era ragazzi Adesso sappiamo anche Da dove viene Questa vena italiana Ma è brasiliano Me l'ha detto lui personalmente Quindi ragazzi Proprio noi sappiamo Che personalmente Costi ci ha detto che È brasiliano Quindi i genitori ragazzi Sono tutti e due brasiliani Sostanzialmente Solo che uno dei due genitori Ha il padre Perché appunto È il nonno che è italiano Che appunto È italiano Quindi ragazzi È nato e cresciuto in Brasile Quindi evidentemente Non spiccica neanche una parola In italiano Mannaggia Mannaggia la miseria Io ci avrei voluto parlare Incredibile Peccato Va bene Va bene Va bene Però c'è quella vena italiana Ragazzi C'è quella vena italiana In questa championship Oltre ai clash Che vabbè Purtroppo hanno tutto Il roster spagnolo Sarebbe stato bello Vedere qualche team Interamente di italiani Però purtroppo Ragazzi abbiamo ancora Tanto da crescere Qui in Italia Però Dai su Almeno un po' La vena italiana c'è Poca Ma c'è Detto questo Ragazzi Allora Vediamo Gli Jupiter Che hanno confermato La loro comp L'Italia non si rinnega L'Italia non si rinnega Vergogna Vergogna L'Italia non si rinnega Consti Cosa stai facendo Però ti dirò una cosa Sai qual è la mia teoria La mia nuova teoria Signor Gigi È che Marcel È un po' italiano Perché spinna un po' troppo E lo stile è il nostro Lo stile è il nostro L'abitudine è la nostra No perché comunque Adesso parte gli scherzi Non sto accusando La community Anzi al contrario È una cosa Che ci contraddistingue Io vedo Meno all'estero Gente che spinna Poi spinano anche all'estero Però Cioè Infatti Non so lei Ma nelle mie live Quando vediamo qualcuno che spinna Diciamo subito È italiano È italiano Sì 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 È dei nostri È dei nostri È italiano Va bene Va bene Comunque no Allora dato che Se la portano a casa di nuovo Il Jupiter Sì Il Jupiter Se la sono riportata a casa Ma è rinnegato E tanto rispetto per l'Italia Da parte di Consti Ci viene detto Quindi assolutamente Non ha rinnegato nulla Grosso rispetto Però ovviamente Dato che per la maggior parte Scherzavo Ci mancherebbe altro Però per dire Qualcuno non capisce Abbiamo gente che non legge I pop up Mannaggia la miseria Detto questo Allora Giustamente ci viene anche Fatto notare Che Gli Jupiter Sono lo stesso Ed identico roster Sì ora lo confermo Però sì Pankozu Agego E Milcreo Sono gli stessi Effettivamente Che lo scorso anno Si sono qualificati Cioè si sono classificati Secondi Ovvero Erano Prenti roster Degli Animal Champuru Cioè poi non so Se se legga Se se legga Se se legga così Però Tecnicamente sì E attenzione Perché gli Jupiter Tornano Alla carica Per cercare Di portarsi a casa Quest'anno Il mondiale Cosa non sono riusciti A fare l'anno scorso Vediamo Vediamo Sicuramente Sono partiti bene Non hanno L'avversario Più difficile Del mondo Perché probabilmente Dopo i cinesi Erano proprio Gli ins Quelli che magari Devono crescere Ancora un po' Di più Per poter Competere Effettivamente A questi livelli Però 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 Devo dire Che Comunque Se sono arrivati qui Un motivo ci sarà Insomma Il solito Il solito discorso Ragazzi Il solito discorso Assolutamente Assolutamente Comunque Notiamo anche Come ci sia Una Una Diversa Concezione Di comp In questa Terzo In questo terzo Match Di oggi Cioè Prima ragazzi Code Magic E Gli SK O Ogni partita Cambiavano Molto 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 Team Se si Perdeva Se si Vinceva Addirittura L'ultimo Match Abbiamo visto Un Mortis Da parte Di Twisty Tweak E Vediamo Vediamo Restare Sempre Allora Ti dico Secondo me È anche Una questione Di mappa Perché comunque In Prateria dei Serpenti Sei più o meno Costretto Eh ma Una No Oddio Non lo so Non lo so Prima abbiamo visto Per esempio Semino Se non sbaglio Qualcuno Non mi ricordo Chi stava Utilizzando Sì Sicuramente In Europa Avrebbero cambiato Più spesso Per esempio Avremmo visto Secondo me Un Brock Un Dato che non è bannato Anche Eugenio Perché ricordiamo ragazzi Sono stati bannati Maxine e Karl Avremmo visto Piper Brock Eugenio L'avremmo visti No aspetta Maxine e Karl Non qui Qui è stata bannata E Ambra 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 E Karl E Karl Sì giusto 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 È vero Ambra Ormai sono fissato Che bannano Maxine Ragazzi per me È sempre bannato Ma infatti A me aveva colpito Molto questa cosa Perché Cioè noi prima eravamo Abituati a vedere Che il brawler L'ultimo brawler È sempre bannato Invece qua no Questa è la prima volta In cui lo trova bannato Sì 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 È vero È vero È vero È vero Comunque non so Se hai visto Marcella Che appena ha visto Che ha perso Si è fiondato al centro Per iniziare a spinnare A fare le sue emote Cioè è proprio Il suo modo di divertirsi È proprio il modo di divertirsi Di Marcella Me lo sono perso No ma Marcella Ragazzi È È uno dei nostri È un mangio spaghetti Come noi Mangia pizza Mangia pizza Ma Non me lo No me lo sono perso Me lo sono perso Eh sì Non l'hanno fatto neanche rivedere Domanda per la chat Dio mi credo Ma il logo Degli Jupiter È una mia impressione Prima aveva anche un po' di giallo Ma l'hanno cambiato Lo sai che prima Allora In queste schermate così Si vede che è tutto grigio Però nell'altra schermata In un'altra schermata Era giallo eh Prima non mi ricordo in quale schermata Ho visto che era giallo Comunque anche Che era quello normale Ah Ecco Ho capito Quindi evidentemente A seconda delle schermate L'hanno fatto tutto grigio Tutto L'hai cambiato un po' È la mia curiosità Se adesso l'ha cambiato il logo Vabbè Qua Le statistiche Erano Molto Molto distanti Questa ragazzi Qua io prendo punti Se mi mettono una bella comp Prendo punti Perché non so mai come giocarla Sta mappa Ah e questa vedremo Te lo dico io Brock Tick Te la sparo Forse è il primo È il primo È il primo Perché con il meteorite Rompe E va Push subito Eh lo so Però anche con Brock Puoi fare la stessa cosa E Brock poi Puoi più funzionale Non lo so Sì Brock adesso c'è il nuovo gadget Spike dovrebbe utilizzare Spike anche Però c'è anche molto C'è spugliame E quindi Il Il primo Può anche stare molto in difesa Non lo so Vediamo Io l'ho sparata Senti Io non voglio Non voglio stare sulle cose No no Ma non mi potete non utilizzare No vabbè Questi sono rimasti al Ti hanno messo Spike però eh Sì Ma sono rimasti al Come si dice Al meta di Tre mesi fa Questo era il meta di tre mesi fa Con Beryl Gale Poi Gale è stato nerfato Diciamo che questa qua è l'unica mappa In cui la jump di Gale ha ancora un senso E quindi Sì Se bisognava mettere Gale in una mappa Questa è la mappa migliore Quello sicuramente Eh Guido rimane lì Guarda Tipo il boss di quella zona lì Della serie Qua voi non passate Questa che è la mia È la mia zona Prende Marcelle Sarà il migliore in campo Mattias arriva in push Con Barley Indisturbato Riesce a farsi un 22% Sì 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 Guarda Giego Comunque Qua gli Jupiter M'hanno Un po' deluso Devo dire la verità Beh sì Ma sta giocando un po' così eh Anche Utilizzare due jump Per andare in push Effettivamente Non Non è Non ha senso Cioè Vabbè qua Ma Ponkozu Con mille di Neanche mille di vita Dove vuoi andare In push Con Bull Eh Questa cosa ho detto È una mappa difficile Volevo prendere appunti Ma sarebbe stato meglio Prendere appunti Se fosse capitata In una Code Magic Versus SK Eh Ma ragà Ma Fanno È talmente brutta Pure la compa degli ins Che qua gli Jupiter Rischiano comunque Di vincere Ma è brutta Ma un po' meno Perché un po' il Barley Guarda come va a itare bene Barley va a itare Volevo bene Ci sta Barley Quello sì Il fatto è che comunque Vedere dei match così Preclude il fatto che Domani In una semifinale Troveremo un livello Beh Il finale di sicuro no Ma in una semifinale Rischiamo già di trovare Un livello un po' Ok È quello sì Perché Allora Secondo me Bisognava fare una cosa Nei sorteggi Quelli dello stesso continente Non si potevano beccare Ma Non è neanche una questione Che in Europa Il livello è più alto Però un po' in tutti gli sport È così Quando c'è poi La finale Dove i vari continenti Si incontrano Per esempio Le squadre Della stessa nazionalità In Champions League Fino a un certo Fino a un certo Punto Della competizione Non si possono beccare Invece Noi siamo subito Andati a vedere Due europei scontrarsi Rischiamo quindi Di vedere Anche per esempio Solo un europea In finale O comunque Due europee In semifinale Cioè Non lo so Ma secondo me Il team di Brawl Ha anche Forse un po' Di piacere Ad avere Team da parte Da tutto il mondo In una finale mondiale No allora Aspetta 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 Non hai capito Volevo intendere Nel senso Ci sta che tu dai La possibilità A tutti Di qualificarsi Cioè Tre europee Due asiatiche Quella americana Quell'altra sudamericana A tutti Cioè Per forza Tu devi dare la possibilità A tutti di qualificarsi Però una volta Si sono qualificati Non fare incontrare I team Dello stesso continente Subito contro Per esempio Anche se In America Era sudamerica E America Verà e propria Io Anche loro Non li avrei fatti Incontrare subito Anche se poi Alla fine Dopo i sorteggi Non è che si sono Beccati contro Ok Non lo so Cioè Avrei dato più spazio Al vedere immediatamente Le varie differenze Di livello Perché per esempio Adesso Un europeo È già uscita È già uscita È già uscito Il team cinese Però Per esempio Metti caso Avesse vinto Il team cinese Contro I PSG Qui Gli Inz Battevano L'altro team Asiatico Quindi Gli Jupiter Noi non avremmo mai potuto Vedere un team europeo Contro un team asiatico Cioè invece è bello Alle finali Poter vedere Tutti quanti Quelli che non si sono mai Potuti scontrare Cioè vedere SK Gaming Code Magic È stato un po' Un replay rivisitato Di quello che abbiamo Già visto durante tutto l'anno Perché poi si qualificavano Sempre loro Cioè Se durante l'anno Si qualificano tre team E bene o male Saranno sempre quelli Che poi si vedono In finale È brutto Rivederli di nuovo In finale Insieme No no è corretto È corretto Però effettivamente Andresti poi secondo me A togliere troppo Alla championship In che senso In che senso però Perché Eh perché comunque Cioè poi da vedere Effettivamente Era un bel scontri Quelli della championship E effettivamente Vai a vedere Anche delle partite Che Cioè che Magari Cioè per dire Adesso è successo È successo Che gli SK Hanno vinto Contro i Code Magic Abbiamo già visto Degli scontri Del genere Capito Ma Quando Però Aspetta Avremmo potuto vedere SK Code Magic In semifinale O in finale Cioè quello che dico io Cioè se poi un team merita Ci arriva comunque in finale Non è che poi non ci arriva Sì 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 è vero Cioè magari Vabbè così ovvio Abbiamo visto una sorta Di finale anticipata Eh quello il discorso Ma secondo me Cioè Supercell Non vuole neanche Far vedere le partite Migliori subito È che semplicemente Ha fatto i sorteggi Poi come sono usciti Sono usciti Secondo me comunque Un po' c'era di Come posso dire C'erano un po' di regole Nel Nel Come si dice Nel sorteggio Perché per esempio Secondo me i Code Magic Non potevano beccare I Clash Che erano Che sono arrivati appunto Per secondi Nel Nel girone Cioè Un po' di regole Secondo me Un po' di regolamentazione Nel momento in cui Doveva fare il sorteggio C'è stato Però secondo me Ci dovrebbe essere Ancora un po' di più Suddividendo i vari continenti Perché ribadisco Rivedere subito Delle partite del genere Non lo so Ribadisco È come vedere Un Un replay Ok Ok no Ma tra l'altro qua Farei notare che La stazione si sta Un attimo invertendo Scusi signor Gigi Ma abbiamo visto Un partito adesso Molto buono da parte Dei Dell'Inns Che oltretutto Hanno utilizzato Un Brock Come aveva suggerito lei Per rompere lo spot Di muro a destra E andare a crearsi Un Troppo per due Per il push Infatti gli Uviter Evidentemente Non hanno seguito L'ultimo mese Di meta In rapina Cioè gli Uviter Hanno scelto Ora vabbè Mentre parlavo Ragazzi La partita l'ho seguita Cioè hanno fatto delle scelte Vabbè Adesso ci mancherebbe Era per dire che L'hanno ascoltata Adesso addirittura L'ascoltano con lo spike Ma io ti dico Forza Inns Porca miseria Stanno mettendo La comp migliore Quella più Competitiva Quella più meta Ma che hanno fatto Gli Uviter Cioè stanno confermando Una comp con cui Stanno prendendo le pizze Da inizio partita Ma perché La paura è che Loro si siano allenati Con quella Eh ho capito Ma un Marcel Che si mette un po' a spinare Mamma mia Mamma mia Marcel Secondo me Lo vedremo Lo vedremo presto Ragazzi E comunque Non stanno Non stanno giocando male L'Inns A questo parte di scherzi No appunto Sono anche abbiato Completamente marcia Rispetto a prima Assolutamente Stanno giocando anche bene Ma hanno la comp migliore Hanno anche Poncozzo Sì vabbè Qua la ulti di Marcel È un pochettino così Ma ci sta Tolgono Bull Tolgono anche Daryl Why not E beh per forza Oddio però Guarda quanti danni hanno fatto Stavolta eh No no Hanno fatto un bel po' di danni Però adesso sono tre Che possono andare a fare un push Con tic Eh guarda lì Eh sì 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 Io non avrei rotto Cioè io avrei rotto Con Brock subito Sulla parte di destra Fossi stato in Marcel Sì sì Perché comunque sia La forza di tic In questa mappa È che Riesce praticamente Da metà campo A andare a hitare la cassa Sì 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 La forza di tic è quella E No infatti Non lo so Hanno secondo me Fatto un po' di cose Che potevano fare in maniera Un po' più smart Ecco diciamo così Avrebbero potuto fare qualcosa Un po' più smart Non la sono andata a fare E Boh ti dico Più che sorpreso La doppia facecam La doppia cam Sì la doppia cam Più che sorpreso degli ins Sono dell'uso dagli Juveder Sinceramente Ma non lo so Non lo so Avevamo Avevamo visto Se non erro Eh Questo per le finali Come? No diciamo Magari la vanno anche a perdere No ok Niente No non penso Perché qua arriva una schiacciantissima Ultima parte di Marcel Che continuano a spinnare Marcel è diventato un gentleman Signori Sì 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 Anzi secondo me adesso Adesso lo vediamo nella cam Che si mette a fare così Esatto Si spinna Spinna lui Spinna real life Però Boh ragazzi Non lo so Non lo so Non lo so Cioè Io capisco che ti alleni Però la bravura del team Il livello si alza proprio in quel momento È proprio anche quello di capire Dov'è il problema E cercare di arginarlo Cioè Anche gli SK Che hanno vinto in arraffagemme Con i Code Magic Hanno capito Dov'era il problema Hanno cambiato un po' di comp Un po' di cose Hanno vinto Questi ridono Perdono e ridono Comunque Noi europei Cioè guarda Guarda come la prendono Vabbè Han vinto Sì No 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 Io sto vedendo quello degli Jupiter Il ragazzo degli Jupiter Stava ridendo Sono in loco da qualche parte Sì sì Ma il bello è quello Si stanno divertendo No io volevo far vedere la differenza con noi europei Cioè noi siamo maledettamente concreti Twist ha staccato la Pacecam Chissà cosa è successo Sì Noi siamo maledettamente concreti Non ce ne frega niente del divertimento Noi ci divertiamo solo se vinciamo Se perdiamo possiamo stare a fare anche la cosa più divertente del mondo Non ce ne frega niente Però ti posso dire che è anche un po' quella la forza nostra Cioè in queste situazioni qui Cioè Vabbè sì che siamo molto competitive rispetto È quello il discorso Cioè ma la cosa bella Che poi ragazzi ovviamente non è che sto criticando il loro atteggiamento Anzi dovrebbe essere sempre così Perché l'e-sport ma anche gli sport in generale Nascono anche per divertire e per divertirsi Però una scena del genere in Europa non l'avremmo mai vista Vabbè sì ma fa parte anche di uno scenario più professionale Cioè nel calcio per dire quando è che vedi i players I giocatori che si mettono a ridere così in mezzo al campo scherzare Sembra quasi una mancanza di rispetto Anche lì versi tipo Cosa è successo al muretto? Ah Brock 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 Sì sì no più che altro stavo vedendo le comp Oh qui adesso secondo me vediamo due comp abbastanza buone Gli spike faranno grossa fatica perché hanno due counter uno dietro l'altro Uno così Eh infatti Ma è quel Mr. P può rompere veramente Tra l'altro Mr. P se ho visto bene con la star power dello spawn aumentato Sì? Mi senti sì Vediamo appena muore appena muore il facchinetto Sì rinasce subito Lo vedi dal colpo che non rimbaccia Ah giusto 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 è vero Ti dico io volevo azzardare dicendo che mi piace di più la comp dell'ins Però c'era quella Bea sai quando vedi Bea ormai in campo pensi che può succedere di tutto Quindi attenzione Però Bea non mi piace perché io ce l'avrei vista più mid che lei in una mappa come questa Sì sono d'accordo Secondo me Jupiter in questo momento sta giocando con due mid Ma diciamo che gli Jupiter in questo momento stanno giocando senza fare le comp Cioè scelgono a caso perché Sì però diciamo anche che Con l'assist che gli ha dato Brock La Bea degli Jupiter con il muro rotto avrebbe dovuto distruggere Spike Invece Regà Io sinceramente come la partita per I Nova China mi sarei aspettato un 3 a 0 netto da parte di Jupiter E io adesso non capisco se è un crescere da parte degli ins e quindi dobbiamo rivalutare un attimino il livello degli ins Oppure Guarda vi giuro mi stanno iniziando a fare innervosire Perdono e ridono Non li sopporto No vabbè oddio oddio Ah no ok a Giacomo ha disperato No aspetta uno l'ho visto sofferente È solo il mio credo che rida Secondo me gli hanno tirato un pugno in testa dietro Mentre non vedeva l'hanno inquadrata Esatto Perché ha fatto proprio così Si è proprio coperto la faccia Io comunque c'è stavo dicendo Non so se a questo punto rivalutare il livello asiatico Cioè se veramente anche il livello asiatico era più basso di quello che abbiamo sempre detto durante le partite Non lo so Non lo so Non lo so Il fatto è che ragazzi è difficilissimo passare a commentare una partita come SK, Code Magic, Jupiter e Inns Il livello è ancora tanto distante Molto 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 Ma ti giuro mi stanno deludendo da morire gli Jupiter A sto punto ripongo il mio Poncozzo si sta pegliando le peggio mazzate Mamma mia Poncozzo Non lo so ma questa pure Poi ribadisco magari che la vincono eh Magari la vincono però hai un pocio doppio tank dove Un tank è andato a sinistra a farsi gli affari suoi Il tank di destra sta andando a farsi gli affari suoi Secondo me non è una mappa da pocio doppio tank E contro hai due anti tank e penny che con il mortaio ti può zonare il pocio Sì ma diciamo che però al tempo stesso avere penny come mid Non è proprio Non è la mappa questa Non è il massimo No ma infatti Infatti in questo caso gli ha detto bene Giusto perché gli avversari hanno il pocio doppio tank E comunque il pocio Il mortaio lo può soffrire perché comunque Ti zona Sei costretto a utilizzare un po' troppe volte colpi No no penny mid non ci sta Però contro il ribadisco Il fatto di penny mid è che gli ha detto bene che al doppio pocio Niente sto doppio pocio Cosa fa cosa fa Marcel guarda Marcel No no Marcel Si è messo a fare le emoji con la X sulla bocca No raga ma veramente comunque Guarda ti giuro io stavo iniziando Che sta facendo Marcel No Ma che cacchio Avevo già mandato il cambio di inquadratura Figura immensa ragazzi E non stava laggando eh regà perché stava lanciando le cose No 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 stavo facendo Passami il termine il No qua errorissimo Non si usa per scappare l'ulti di Di Colette please Oh e ritorna ancora una volta a fare le emoji Mamma mia Cioè deve proprio essere cocciuto eh Deve proprio essere cocciuto eh No ragazzi Veramente Non ci posso credere Io stavo iniziando a Stavo cercando di capire perché mi facesse male la testa Ma adesso che hai detto passare da God Magic a questo Mi ha fatto capire perché No ma perché Cioè queste partite Sai perché comunque dici sai Stai le Brawl Final Ci avranno un senso tutte le scelte che fanno i player E quindi anche se uno non la capisci Tu stai lì per cercare di capire effettivamente perché fanno determinate scelte E sono quelle partite che ti fanno venire il mal di testa E gg gg error 404 ragazzi Non lo so non lo so raga non lo so non lo so Cioè Gli Jupiter stanno iniziando a dire ma stiamo seriamente perdendo contro questi Guarda che Guarda che l'hanno stordito a Gebo eh A Gebo A Gebo si E' un attivino Guarda 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 anche lui Guarda guarda sta proprio soffrendo Ma cosa Poncozzo no come si chiama Sta soffrendo Ma non ci credo Si Poncozzo è l'unico Poncozzo è l'unico No rega non ho parole Ma poi hanno giocato un pocio doppio tank malissimo I tank andavano per conto loro Secondo me non è neanche la mappa per giocare il pocio doppio tank Che appena sfondi due muretti è completamente aperta Boh non lo so rega Sto volando Niente ragazzi Gli asiatici di punto in bianco sono diventati gli americani Gli americani a questo punto saranno diventati gli asiatici Lo scopriremo nella prossima partita con i tribe red Che in realtà sono gli ex omen Dopo mamma mia quanto mi sbaglierò Gli chiamerò sempre omen ragazzi Già ve lo dico metto le mani avanti E niente Allora 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 Dislike per Marcel Nel dubbio Nel dubbio Gli Jupiter tengono comunque due mid Sì sì Nel dubbio E infatti Eccola lì Ecco lì Mattias Che ecco Dislike 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 a differenza di quello che dovete fare voi ragazzi Invece un bel pollicione in su Per queste partite Forza ragazzuoli Lasciate like Per supportare il competitive Anche Per questi ragazzi Iscrivetevi al canale Se ancora non è stato fatto Passate dal Bonferre C'è il link in descrizione Vi ricordiamo che domani mattina Ci saranno le semifinali E le finali Sul Canigrax Noi oggi stiamo vedendo i quarti di finale Questa è la penultima partita Che vedremo oggi Dopo ci sarà Quella finale Che sarà proprio quella tra i Clash Che ormai sono Gli AC Ormai la chiamo anch'io AC Milan Clash Contro Gli Omen Che però in realtà Associazione Calcistica Milan Dai chiamiamola così esatto Bravo Però suona un po' male Associazione Calcistica Milan Clash Nel torneo di Pro Stars Mamma mia si è abbastanza Vabbè perché il Paris Saint Germain Anche Guarda Marcel Gli ha messo un mortaio lì Che è inutile Gli ha messo lì Tanto per trollare Guarda pure il video Dislike 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 Ragazzi Niente Ragazzi è dimostrato scientificamente Comunque che iscriversi ai nostri canali Riduce la possibilità di incontrare player come Marcel Durante il matchmaking Quindi mi raccomando Ricordate l'iscrizione Perché altrimenti Troverete questi player qua tutti i giorni Quando decidete di giocare a Brawl Stars Va bene Sì assolutamente ragazzi Assolutamente L'iscrizione è d'obbligo Anche solo per questa cosa Quindi mi raccomando Ma poi soprattutto perché Prostima settimana esce il nuovo Brawl Pass Mi raccomando Se lo shoppate Ovviamente se lo shoppate Utilizzate i nostri codici creatori C'è quello di Ferre C'è quello di Grax C'è il mio che vi ricordo Che è GGYT C'è quello di Ferre Che è Ferre C'è quello di Grax Che è Grax E non vi potete sbagliare È solo lei che è YT Sì so io Esatto C'ho gli YT Ma no Ma perché molti Ma cosa fa Ma no Ma cosa fa Ma pure nella real life Ah Ma loro c'hanno Aspetta mi tolgo un attimino le cuffiette Loro con la sedia che hanno Potrebbero fare così Potrebbero fare Ecco Sto spinnando nella vita reale ragazzi Sto spinnando nella vita reale Loro potrebbero fare così Ce l'hanno le sedie per farlo Non capisco perché non lo facciano A questo punto No ma adesso Adesso spiego io Anche ai moderatori Tutto Ragazzi Marcel non voleva fare gestacci Ah no E che era convinto Di giocare nella nuova modalità Quella dove devi votare le mappe E sta mappa qua Non l'aveva riconosciuta Non gli piaceva tanto Allora l'ha messo Non mi piace Perché non gli piaceva Sta mappa Pensavano che si potessero votare Anche queste Esatto Si riaccende lo studio Nel frattempo Torna verde Torna verde Torna verde Spike Adesso mi immagino tipo Gli Jupiter Che si tolgono Le Le giacche Madonna Si tirano su le maniche Più che altro Anche Prendono Gli asciugamanini Cioè ma no Quello che ti vorrei chiedere Adesso Mettiti nei panni De God Magic Che sono usciti Contro gli SK E poi vedi questa partita Eh Oddio Cioè io anche per quello Ti dico che Prima facciamoli scontrare Tutti i team Dei vari continenti Così capiamo Qual è il livello Che effettivamente Deve arrivare in finale E poi ci vediamo Alle finali Dei partite belle Però tu così Dai la possibilità A dei team Che sono Non uno Non due Non tre Quattro scalini sotto Altri Andare avanti Rispetto a Quaranta Quaranta anche Ma per carità La possibilità È a tutti Dando più possibilità Agli europei Che ovviamente Il livello più alto Ne fai qualificare tre Quello è perfetto Quel concetto è perfetto Però qui Tu non Non lo so Perché noi adesso Rischiamo Alle semifinali Di vedere Chi vince Ma anche questo Anche questo push Con Geki Sul robot Per cosa Non lo so Comunque qua La regola di Gigi Un errore banalissimo Perché vai a pushare Un robot così Qua la legge di Gigi Attenzione perché C'è surge Quindi sulla carta Gli insegni Dovrebbero perdere E non si può E non si può Ma è una questione Legata solo Alla star power O No no Sorge in generale Sorge in generale Ok Sì 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 Ragazzi vediamo Vediamo Io sinceramente Credo che questa Potrebbe essere Una delle poche eccezioni Che smentisce Potrebbe La teoria di Gigi Potrebbe Assolutamente E veramente Ragazzi Se il Jupiter E E l'Inx Mi vanno a Vanno pure A rovinare La teoria di Gigi Penso che Gigi Qua veramente Altro che fare Il mio mal di testa Va veramente In conflitto Quitto Quitto E Tra l'altro Maxine Non bannate Andiamo a vedere Il bot Il robot Anzi Fa l'11% Sì comunque Ragazzi Prima hanno vinto Gli SK Contro i Code Magic Buona Buono Buono Quel grab Di Macello Eh sì 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 Qua Sino Gigi Qua potrebbero Ribaltare la situazione E potrebbero Tirare giù Questa mia teoria Di surge Ti posso dire Che mi dispiace Un pochino No vabbè ma Rendiamoci Cioè Lei potrà sempre dire L'unica volta Che ha vinto Qualcuno Ha vinto due team Particolari Ma Mannaggia la miseria No Cioè gli Jupiter Quest'oggi Mi stanno rovinando Nelanzana Nelanzanone No no ma ci sta Ma quest'oggi Gli Jupiter Mi stanno rovinando La giornata Mi stanno rovinando Io sto attifando Ancora di più Per gli Inx Mi stanno rovinando La giornata Gli Jupiter E mi fanno togliere Il record Di Surgio che perde E mi Completamente a caso Mi vanno a perdere Con gli Inx Quando sono Stra mega favoriti Ma dove Ma perché Mi dovete rovinare La giornata In questo modo Adesso Adesso ragazzi Boh La live Boh Tutto Si blocca La live Non è Errore Tutto schermata nera Schermata nera Ragazzi E G Veramente Qua Dà l'errore Dà il crash No ragazzi Io quitto Me ne vado Lascio fare a lei Domani lascerò Grax da solo Non so se vuole Fargli compagnia a lei Al signor Grax Vado io Vado io Da signor Grax Mannaggia ragazzi Oh mannaggia Mi lasciate un like Per favore Un like per il mal di testa Di Gigi Per colpa degli Jupiter Guarda neanche per colpa Degli Inx Per colpa degli Jupiter Ragazzi Voglio arrivare a 17.000 like Instant Per il mio mal di testa Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per tutti i video Del Brawl Pass Che arriveranno prossima Che arriveranno prossima settimana Quindi Non vi dimenticate di iscrivervi E controllate di essere iscritti Passate dal Buonferre C'è il link In descrizione Per passare anche sul suo canale Sicuramente anche lui Porterà dei contenuti croccanti No no Io penso di smettere Brawl Stars Basta dopo Dopo gli Jupiter No basta Ragazzi Ci saranno tanti contenuti E soprattutto Ci saranno Anche dei contenuti Sempre se riusciremo Con il Buon Gigi Visto che l'ultimo video Fatto con lui Vi è piaciuto un sacco Ragazzi Mi ha fatto molto piacere Vero E quindi insomma Ne faremo altri Sicuramente Ne arriveranno altri Sicuramente Ne arriveranno altri E qui c'è stato Come ormai Di consueto Un cambio comp Di chi vince Perché cambiano le comp Chi vince Chi perde Però Sorge rimane Sorge rimane Oltretutto È Marcello Che ha messo È Marcello Che ha rovinato Mannaggia Quindi veramente Sta cosa Penso che il prossimo spin Che fa Lo fa per me Tipo me lo dedica Fa lo spin Fa vedi Ho vinto con Con Sorge No allora Fermi tutti Perché No no Ma gli Jupiter Si sono un po' rimbambiti Posso dirlo Cioè qui Cioè noi abbiamo sempre Parlato di Aggego Fortissimo Abbiamo sempre parlato Di Poncozzo Sì ma qua Marcello Ha giocato anche molto bene Rimane con cento Però non puoi busciare Con Jackie Un Un Sorge Cioè ma che mi rappresenta Eh così devi fare Devi stare un po' lontano Sperando di colpirlo Cioè ma ci sono degli errori Proprio A livello singolo Dei Degli Jupiter Guardi di nuovo Argen Ah mamma mia Un viziaccio proprio Poncozzo va così Questo è Marcel Questo è Poncozzo E non sta neanche E non sta neanche usando le emoji Vediamo un po' Sì strano Cioè persino Marcel Si è messo Carse realmente ragazzi Eh Ma non capisco No regà Qua gli Jupiter Se la son venduta È l'unica cosa Mi viene in mente Non lo so Comunque grazie per i 17.000 like Il mal di testa è un po' passato Effettivamente Eh ragazzi ve lo dico Mamma mia che bravo Qui Marcel ha fatto una giocata Cattivissima E qua è stata una bella giocata E infatti fa gli dislike Vabbè Qua Marcel ha fatto una giocata Davvero pazzesca Ogni mi piace ragazzi Una spirina per Gigi Eh comunque Esatto Trovato 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 Sì Yoshi per carità Però tanto Arrivato a quel punto Penso giochi anche un po' Per l'orgoglio Sinceramente Però Cioè Ragazzi Dai Veramente Match point per gli ins Ma mi state dicendo Sul serio Savvy dice Savvy dice Eh Hanno il delay Li Jupiter Eh Giocano in server diversi Dice che ha un problema di delay E che facciamo allora Favoriamo Un team piuttosto che un altro Per il problema Cioè Non è Savvy In realtà Non la penso come te Nel senso È possibile Che questo sia un problema Ma Siamo sicuri che Alle wall final Ci sia Un problema di Di questo tipo Secondo me Li avranno adattati Un minimo per Per riuscire a giocare Boh regano Anche perché Ragazzi Inizialmente La mia teoria Era che questi player Fossero a casa loro E Anzi Addito la buon Gigi Me l'aveva supportata Perché avendo quello sfondo lì Sembrava avessero un green screen Quello che ha Gigi in questo momento Che può assumere qualsiasi colore Ok E Però effettivamente Come ci hanno già fatto vedere In più occasioni I player si trovano In uno spazio in comune Tutti quanti Eh però aspetta 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 Perché Allora Mi arrivano cose Però Dal mio team Diciamo Quindi non Non diciamo proprio Dalle retrovie ufficiali Di un tweet di Consti Quindi un tweet di Consti Quindi proprio uno dei giocatori Ok Che scrive Quello che stiamo facendo Cioè non è da BM Quindi da Vabbè Avete capito Insomma Non è da BM Stiamo facendo una protesta Usando i pollici all'ingiù E abbiamo detto anche All'altra squadra Di farlo Ma non lo fanno Ma perché? Non lo so È proprio perché Sta cosa del delay Quindi evidentemente C'è il delay E gli Jupiter Stanno giocando con Però Dico Com'è possibile? Ma stai scherzando? Consti l'ha scritto su Twitter È quindi uno di quelli Che sta vincendo Quindi neanche Dici quello che perde Che rosica magari Beh io aspetto Aspetto Che arrivi qualcosa Dalle retrovie ufficiali A questo punto In risposta Non si capisce Però comunque Ora a parte tutto Per carità Ok il delay Quello che volete Ed effettivamente Certe giocate Non le capivo Proprio per questo motivo Però le scelte Di comp Sono quelle Cioè nel senso Ora per carità Gli Jupiter magari Avrebbero anche vinto Con le stesse Scelte di comp Però hanno fatto Delle scelte di comp Davvero allucinanti Gli Jupiter ragazzi Cioè hanno fatto Davvero delle scelte Allucinanti A livello proprio di comp No vabbè Ma che c'è il Tredoardo Non lo so ragazzi Non Non ne ho la più Paglia idea A questo rovinerebbe Ma io sinceramente Allora io Qua mi rivolgo Al buon Savi Che comunque Si dimostra Ancora una volta Un player Sicuramente molto sveglio Io non pensavo Assolutamente Che ci fosse un problema Di questo tipo Ah no Sinceramente Cioè Parliamo delle finali mondiali Non Mi sembra veramente strano Però non capisco Cioè di lei Con il ping alto Praticamente Cioè che succede E poi perché Gli Jupiter si E gli insenò Per esempio Cioè perché Solo gli Jupiter Non lo so Non lo so Provo a chiedere Più che altro Abbiamo delle partite Ragazzi è vero Abbiamo visto una partita SK contro Code Magic Ad un livello Pazzesco Eh si Non si può vedere Una cosa così Ma allora Era dall'inizio Cioè comunque Per carità Ora noi non ce ne siamo Accorti del Del delay Perché nella mia testa Non c'era neanche Proprio questo tipo Di problema Però effettivamente È dall'inizio Che diciamo Che Eh vedi Infatti Marcel non vuole Neanche dal pugno Al compagno Cioè della serie Non si sentono vincitori Sì Effettivamente È dall'inizio Che diciamo Che effettivamente Gli Jupiter Stanno a giocarle Leggermente Forse anche più Di leggermente male Eh si Eh si Eh Cioè quello Ce ne eravamo accorti Marcel alla fine Usava quell'emozio Per un motivo Dai alla fine Noi ci abbiamo scherzato Sopra invece Esatto No direi Ragazzi A questo punto Direi Respect for Inz Perché Facciamo il gesto Anche noi Ragazzi Cioè Respect for For Inz Ragazzi Perché Cioè Comunque Non è Non è facile Ecco perché Allora Ridevano Mo se spiega Tutto Ecco perché Ridevano C'erano troppe cose Strane In sta partita Ragazzi Vabbè Comunque sia Comunque sia Abbiamo Ma cosa fa Stare fuori Comunque Giù E Diciamo che Comunque sia Adesso abbiamo Un altro bel match Adesso sì Però Sarà Durissimo Per Cioè Qua Il Red Farà una Fatica Boia Però Vediamo Guido Che fanno Sì Guido MVP Tra l'altro Quello che ha usato Più spike Di tutti Non è un caso Secondo me Sì Bella partita Però spero Non ci sia Sto problema Jupiter Hanno perso Ragazzi Sì Penso Ok Boh Vediamo Spero che per Milan Tribe Non succeda La stessa cosa Ma Soprattutto Quello che volevo Dire io Le comp Sono inguardabili Come ha detto Gigi Però In chat Dicono Durante le prime partite Di Nova Contro PSG Le comp Alla fine Sono state Poi Spesso Volentieri Inerenti Ancora No ma A me Vediamoci Prima lo spot E poi Dico quello che mi stanno Scrivendo anche i ragazzi Del mio team Che è sufficiente Anche loro Più di noi ne sanno Ah Lo Juncker Garage LOL Ma che figata Sti spot Comunque Dicevo Che mi dicono Giustamente Che avevano Utilizzato Delle comp Strane Per utilizzare Dei brawler Che avessero L'automira Tra virgolette Cioè per provare A sfruttare L'auto aim Per provare A colmare Quel delay Che avevano Quindi per quello Spesso e volentieri Vedavamo Delle comp Strane Ok Sì Ma adesso Domanda che mi sorge Spontanea Paris Saint Germain Nova China Vabbè forse Lì server Sono un po' più Compatti Evidentemente Non lo so Infatti non riesco A capire Come allora Lì il problema Non riesco a capire Non lo so Ok Ma allora Qua potrebbe Qua ragazzi Di cosa stiamo parlando Di nuovo Eh qui vediamo Di che stiamo parlando Signori Allora Non lo so Allora Io sono curioso Di vedere gli americani Speriamo non ci sia Questo problema Per nessuno dei due Ovviamente Sono curioso Di vedere Gli americani Ah il caos Guardalo E sono curioso Di vedere anche Se i clash Arrivano belli Preparati e cattivi Ma penso proprio di sì Con le magliette nuove Oltretutto Pure le magliette nuove Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Raga Adesso i clash Non ve ne potete andare Non ve ne potete andare Dolce si in fundo Non intervistano Non intervistano Più che ghia a sto punto Vabbè non è scarso Neanche No ma che scherzi Se stanno lì Sono tutti forti Eh Ci mancherebbe Possibile Possibile che sia il capitano È tranquillamente possibile Che sia il capitano Sì 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 Secondo me potrebbe essere Il ban più efficace Sì 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 sono d'accordo E dicevo Dato che i codemagic Hanno un secondo team In cui tra l'altro C'è proprio trebor Che prima giova proprio Nei clash In vari tornei in giro Proprio i codemagic black Hanno mezzo battuto Un po' tutti Eh Non stanno andando male Hanno fatto dei tornei Anche proprio contro Codemagic purple stessi Contro clash Contro Gli altri tribe Eh E vincevano addirittura Giusto per dirlo Questa mappa è molto interessante Secondo me Qui adesso veramente Potrebbe arrivare A spunto Prima c'era una mappa interessante Ma non c'era il team Giusto forse Per te la fuori della comp Qua vediamo Che cosa cavolo Spoderno No più che altro Ripetisco Spero non ci sia Il problema Che si è Proposto prima Cioè Cioè speriamo Che siano un po' più stabili Se c'è Piove proprio sul bagnato Perché È a favore dei clash Eh ma potrebbe essere Anche a favore dei tribe Chi lo sa Che è a favore di chi è Se Penso che se per caso Vabbè adesso lo scopriamo Se Se i clash Diciamo che un team Come i clash Se laga Te ne accorgi subito Quello si Quello si Quello si Ma in realtà ce ne sarei Cioè Per i Guarda come Come sono partiti Tribe Rompo subito A sinistra Anche Anche Entrambi hanno subito rotto Ma hanno cambiato Ma hanno cambiato Ma hanno anche cambiato Letteralmente Tutta la Il tag Non c'è più QLS Ma c'è AQM Trigger Questo un po' triggera Questo un po' triggera Perché Perché sta per Associazione Clash Clash Per forza Però dovrebbe essere AQ AMQ Eh a sto punto Sì Però evidentemente Però evidentemente Boh chissà per quale motivo Regà Non ci posso credere Sto vedendo delle cose Cioè Cioè Non è normale Quello che stanno vedendo Vero Sinurgici Non sono solo io Che Sì Stanno giocando Prendete solo I Tribe Rischiano Stanno rischiando Stanno rischiando Diciamo che Tra le due comp Preferisco proprio Quella dei Tribe Io ragazzi Quando dirò Omen È per i Tribe Perché prima erano gli Omen E mi sbaglio un sacco A chiamarli Vabbè Il Red Tu pensa a Il Red 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 Chiamai il Red Regà Non è Non lo so Ma la comp è un po' più solida Dei Dei Tribe Non Sto cercando di capire Se c'è del delay o no Io chiedo la chat Zagga Non dico nel chat Sì Secondo la chat Infatti i Clash Stanno laggando Possibile Non deve diventare Un pretesto Adesso Perché non deve diventare Un pretesto Però No 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 È che Cioè È strano È molto strano Sì è molto strano Però secondo me La comp sta facendo tanto Comunque attenti Perché Ecco se la so portata a casa Tranquilli ragazzi Tranquilli No scherzavo Ok Dove l'hanno fatto Tutto quel danno Ok Non c'era la doppia cam Suppongo Uno spike in base No non c'era spike in base Spike era appena rinato Pure Pam era appena rinata Come ha fatto Brock A fare tutto sto danno No c'è bisogno Della doppia cam Però Perché il gadget Te li permette Anche più danno E che c'è Ancora il gadget Dopo tutta la partita Se l'era tenuto Dici Ulti Però vengono chiamati Red Ma nell'aconimo in alto C'è ancora TR Sì 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 Perché è tribe Ma anche il tag È tribe Dicono Eh Ragazzi Non deve diventare Un pretesto Non deve diventare Un pretesto Ragazzi Dai su Hai perso Hai perso la prima Dai ragazzi Hai perso la prima Su 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 boys Che si può ancora fare Eh Hanno confermato Addirittura E di là Gliela copiano anche Non l'ho capito Cerchiamo Cerchiamo Stanno cercando di capire Ragazzi Stanno cercando di capire E E Sto Sto Fissando i movimenti Dei brawler Per capire Dove c'è Questo sicuro Più che altro Il lag si dovrebbe percepire Tanto nelle schivate Non lo so Non lo so Non lo so Allora Io comunque un po' di errori A livello di mira L'ho visti Soprattutto dai muniz Comunque A prescindere Il problema di mira Lag o non lag Boh Il discorso però è che Nel momento in cui Adesso hanno giocato Con la stessa comp Ma Aspetta Ma Maxine Vabbè adesso No infatti è morta Quindi niente È morta È morta Chi non è morta Siamo a portare la seconda Partita Questa è dominata Da parte dei tribe No Questa è dominata Da parte dei tribe Quindi 2 a 0 capina C'è qualcosa Che non quadra Secondo me Non lo so Sto cercando Sempre di capire Sui movimenti Però non Non mi sembra Di vedere cose Troppo 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 strane Davide scrive Se usano i giga Magari non lag Se usano i giga Mamma mia ragazzi Il problema è che Non uso i giga Ragazzi Hai caos Seduto su una banana No 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 C'è C'è È la sedia Ragazzi Che cos'è Boh raga Non lo so Oddio Aspetta È veramente Seduto su È tipo una banana Confiabile Ok ok Beh ma dopo la poltrona Dello zio Fester Di San Bentley San Bentley Anche detto Zio Fester No comunque Non credo sia un Confiabile A form Boh non lo so Comunque I tribe Confermano la comp Di qua Abbiamo Energetic E non l'ho capito Tanto il perché Energetic In una mappa Del genere Sinceramente Mamma mia Qui Cori Che kill È andato a fare Se non dici Sarà Sarà Vero la sua Legge Sta partita Sembra abbastanza Eh Anche perché Dai su Fino adesso Arretto Sono mesi Che regge La mia legge E mo due volte Di fila Che viene persa No dai Please Please Due volte Così No Attenzione Chaos però Eh cavolo Lo usano comunque Lo usano comunque Uh Kill va giù Cioè Fa la kill Fa la kill Sì 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 Però Quella lì appunto Potrebbe sembrare Una kill fatta in autofire Da ravvicinato così Vabbè Da ravvicinato così Sembra So che Penso che Eppure loro ogni tanto Di autofire ci vadano Eh non lo so Non te lo so dire Sinceramente Uh Qua Chaos Ha evitato molto bene Il colpo di Di spike Secondo me È proprio da ravvicinato Che non usano L'autofire Però Mi sbaglio Non lo so Perché è facile Che il nemico Ti patti attraverso Tu hai visto L'autofire E il colpo va Non lo so Non lo so Magari mi sbaglio io Eh comunque Ragazzi Non lo so Ok l'ha hittato Boh non lo so Però energetic La prima E questa terza partita L'han persa Sicuramente Per Per un discorso Di comp Eh Cioè ragazzi Non è che siamo Zitti O sinergici Veramente Sento che anche Lo zio Si sta Si sta concentrando Per capire Sti movimenti Perché Ah Questa è la prima Ragà Questa è la prima Partita Comunque c'è stato Un errore di comp Comunque i tribe Sono riusciti a Counterare meglio La comp Dei Dei clash Perché Boh Energetic Sura lane di spike Non è che abbia La vita così facile Soprattutto in una mappa Del genere Eh Qua si vanno a fare La cassa Mi sa Però Questi non sono I clash Non lo so Comunque Set di rapina Portata a casa Da parte dei tribe E Si va Sull'1 a 0 Dunque Per quanto riguarda I set In generale E adesso Non ho visto All'era l'altra Modalità Non ho visto Qual è L'altra Modalità Purtroppo Non me la ricordo Più che altro Non mi ricordo Qual è l'altra Modalità Non lo so Ragazzi La prima Comunque si Non è una set Da gaming È tipo un puff Oppure il suo È tipo una bananina Infatti È una banana Avete ragione Comunque Tutti i rossi Tra l'altro I vestiti Vabbè Che poi tra l'altro Guarda i danni Guarda i danni In realtà Non è che siano così Tanti Allora Le kill Sì Però i danni Sono quasi Quelli Addirittura I danni Fatti In brawler Eh ma L'autofire Che cosa Sarebbe fare Sarebbe fare Dei danni Alla fine Della fiera Eh sì Lo so Però se continuare Oddio Allora qui Questa è la mappa Per capire Eh sì Forse Perché gli altri Sono Oddio Anche Excel Anche Excel In fondo Se ci arrivasse Potrebbe essere Vediamo Una buona mappa Per capire Perché Excel È facile Che ti incassi Secondo me È il Milan Che porta sfiga Ma no 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 Sarebbe un esordio Un po' Un po' Così Eh in effetti Allora Maxine Comunque Maxine Viene sempre confermata Da entrambe le parti Mamma mia ragazzi Ecco adesso Vediamo Allora Se non prendono Neanche una volta Il carretto Regà Non è questione Di lag O di lei Che sia Vabbè Il colpo A parte di Muniz Però chi Va giù Eh ma Ti dirò I tribe Hanno ritirato Fuori i pam Col tento Era un po' Uscita dal Eh no ma qua La comp dei tribe È anche buona Sì Ma ti dico Stanno Vuol dire che Cioè stanno scegliendo Delle comp migliori Secondo me Quelli dei Tribe Non lo so Non lo so Non mi sento Ancora Di dare un giudizio Sinceramente No No Quello Nemmeno io Dovrei andare a vedere Questo tweet Di cui si parlava Prima Sinceramente Di consti Oltretutto Si era Provo di consti E cerchiamo Di In sconsti Non sono mai Non sono mai Riusciti neanche A salire Hanno dominato Decisamente I tribe Chissà Allora La seconda partita Sì Ok La seconda partita Era Europa Europa Ok La prima partita Quella là Dei China Contro Appunto Il Paris Saint Germain Pure lì Probabilmente I server Erano relativamente Stabili Alla fine Sempre lì In Asia Sei Più o meno Però ragazzi Cioè Questi qua Dai Non sono Non sono I clash Io comunque Cambierei anche Qualcosa A livello Di comp Perché qua La comp Dei 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 Tribe Comunque Mi è sembrata Decisamente Più Compatta Allora Aspetta Qua Ha twittato Di nuovo Hanno Hanno messo Le luci rosse Adesso Allo studio Ha cambiato colore Sì Ha cambiato il mood È cambiato il mood Pozo Pozo mortis Bibi Eh però di là Ci sta il counter Non lo so Ah ok Addirittura Qualche retoro Va a prendere La pam Versaria Non lo so Il doppio Tank Potion In sta mappa Sincedente Non l'ho mai visto Uh mamma mia Qua chi è con Con mortis Che sta per fare Poi vabbè Non c'è riuscito Perché La pam Si è curata Quei caos Probabilmente Andrà a morire Cioè O questi Questi tribe Sono veramente A un altro livello Però Comunque sia Per come Erano favoriti Clash Rispetto ai tribe Cioè Mi fa strano Non vedere Neanche una vittoria Da parte loro Cioè C'è qualcosa Che non va La cosa strana È quella Non è che dico Che debbano vincere Perché Dire debbano vincere Allora Non stiamo neanche A commentare Cioè Cosa stiamo a commentare A fare Se si piangere Chi vince Però Un team favorito Che non fa neanche Un punto Cioè C'è qualcosa Che non va Si 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 C'è qualcosa Che non va Allora Di nuovo Io comunque Continuo a ripetere Che La stessa cosa Della comp Che non comincia Neanche stavolta Cioè Il Pocho Doppio tank In questa mappa Sinceramente Non l'avevo mai visto Qua addirittura Unque Munizia Mi sa che non è Neanche mai morto Col pocho Addirittura Ricordo La chat Visto Che ho letto Un commento Che questo team Qua che vediamo Sono i clash Spagnoli Ragazzi Si 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 Sono quelli Spagnoli Però puntualmente Vedo i commenti Di persone Che tifano I clash Spagnoli E tra virgolette Fanno il tifo Per l'Italia Cioè Benvenga Fare il tifo Per l'Italia E tifare clash Perché è un team Anche italiano Certo Ma questi Prendi qua Che vediamo In particolar modo Sono quelli Spagnoli Ok Si 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 Infatti Tra l'altro In EWC C'è stato C'è stato Il change Del name Da parte Di clash In L'ultima giornata No Vedremo Nelle prossime giornate Se cambierà Anche lì Ah no Però Perché sono usciti Non li abbiamo visti I playoff Perché sono usciti Subito Ora che mi ci fai pensare Stavo dando anch'io Per scontato Che fossero le fasi finali Però no Quest'anno Non sono passati Corri c'è il naso Che è di prude Secondo me Ogni volta che lo inquadro Non è lì così Si si Ma sai che anch'io Io quando sto tipo in live Sto lì concentrato C'ho il naso E mi Guarda guarda di nuovo A me qua sulla Prud inizia Prude il naso Quando sto tipo tanto in live Sto là concentrato Aspetta che passo Ce l'ho un fazzoletto A passare Non ce l'ho Non ce l'ho un fazzoletto Ce l'ho io qua Ce l'ho io qua Ma raga non so Non lo so Mi fa troppo strano Non riesco a capire Veramente Non riesco a capire Signor Gigi Si c'è qual quadra Che non cosa Io speravo In un intervento Dai piani alti Che ci comunicassero qualcosa Ma non sta No no Mi hanno comunicato Che non è ufficiale Come cosa Cioè Non è Non è ufficiale Il fatto che i team Stiano laggando Ah ok Io non ho ricevuto niente Si 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 no Perché appunto Gliel'avevo chiesto io Gliel'avevo chiesto io Ok No 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 Ragazzi Ben e Tom Erano i tribe europei Questi qua sono i tribe americani Che in realtà Prima erano gli omen Che prima erano gli omen Ragazzi Cioè C'è presente gli omen Il team Che si era sempre qualificato Però i tribe non si sono I tribe quelli veri Tra virgolette Non ci sono Ok Esatto No loro non si sono qualificati Ragazzi I tribe quelli europei Diciamo I tribe europei Non si sono qualificati Non lo so Non lo so signor Gigi Perché Boh Dai è impossibile Ma stiamo parlando di clash No si no Ma più che altro Ma clash o no Potevano esserci anche i god magic O chi per loro eccetera Tu prima hai detto Una cosa giusta Cioè ci sta che mincano I tribe red Anche se erano gli sfavoriti Perché ci sta Però caspita 3-0 3-0 Abbiamo visto eh E tutte le partite Già decise Cioè giusto una rapina È stata un po' combattuta Però Boh Non lo so Cioè Non lo so Eeeh Cioè Guarda Non hanno fatto sponare Neanche la Ah si Francesco Sì Il Milan Il Milan che vedi Come sponsor Probabilmente È proprio il Milan italiano Quello sì Perché non esiste Un Milan estero Però il team È quello spagnolo In questo caso Bisogna vedere Se poi questa Questa cosa È per il clash In generale Quindi per tutti i team Per tutti o solo questo O cosa Sì no Infatti Infatti Bisogna Bisognerebbe vedere Bisognerebbe vedere E diceva lei Signor Gigi Scusi No Che effettivamente È strano vedere Che il team Sfavorito Eeeh Di fatto Le stia vincendo Così tanto Cioè Così Prepotentemente Capito Eh infatti Lol comunque dice Che è passato Consti in chat A scrivere Ah sì Sì però in inglese Aspetta Aspetta Quando va a cercare Eh no No Mi sa un po' Fa Un po' di tempo fa E non aveva nemmeno Il nick No Ok Vediamo un pochettino Questa partita Speriamo Che veramente Ci possa essere Un cambio di rotta Da parte Di questo Speriamo Di questo sentore Ecco Allora abbiamo Tra l'altro Ambra Guarda Ambra Che è appena morta Tra l'altro Rip Tra l'altro Proprio dei clash Beh Diciamo che C'è anche Un piccolo ragionamento Se Tu utilizzi Cioè se tu hai Una situazione di delay Mettere Ambra Non so se è Un'ottima idea Ecco Sì Non lo so Non saprei Effettivamente In una mappa Del genere C'entra poco Però si potrebbe Sempre tornare A fare il discorso E si faceva prima Che Di Jupiter Facevano delle scelte Per quanto riguarda Le comp Proprio inerenti A questo problema Del Eh infatti Questo che dico Se loro Stanno Delagare Avranno Un minimo Di attenzione Verso questo E però Perché mettono Un'Ambra Cioè un'Ambra Non è un brawler Che se laghi Riesce a usare Eh no no Infatti Infatti Quello è Infatti era La cosa che stavo Per dire Ambra Non la metti Perché laghi Comunque tra l'altro Utilizzata con l'abilità stellare Quella vecchia Ancora Vabbè quella sì Perché l'abilità stellare Nuova è A meno A parere mio È molto interessante Però c'è una grossa Differenza tra le due L'abilità stellare Vecchia Ti ha due vantaggi Quella nuova Te ne dà uno solo Sì quello è vero Ok sì Quello è vero E quello fa tantissimo Perché alla fine I vantaggi Non è che dici Vabbè te ne dà uno solo Ma è sgravatissimo Rispetto Agli altri E no Sì 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 Cioè Non è così Quello è vero Cioè sì Caricarsi Caricarsi A No Meno male Gli stava per entrare L'ultimo bullone Meno male Gli è entrato dopo E non l'hanno richiamato Il robottone Quindi forse Crash questa Se la riescono a portare a casa Eh sì Eh sì 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 Forse questa sì Se no poteva essere peperone Eh sì 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 Oddio no Vabbè no Un colpo di bombardino Un po' fa tutto Sto danno Dai Dai Ok Eh oddio No 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 Eh oddio Sì 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 89 87 Eh pareggio all'ultimo Ma hanno rischiato E qui hanno rischiato Più i clash Che i tribe Perché i tribe Avano preso anche Il quattordicesimo bullone Sì Al pelissimo Vabbè Questo è È sicuro È finalmente Un cambio di rotta Da parte dei clash Speriamo che Continui Sì Speriamo che da qua Si possa C'è C'è anche la possibilità Che Cosa è successo Ho visto una luce Farire No c'è C'è anche la possibilità Che semplicemente Questa cosa Si sia fixata Ecco I tribe Hanno fatto un cambio Di comp Ok No forse no Curiosa anche la scelta Di andare a rompere Il muretto Di sinistra Subito Con Con Il broc di cori Sì Per dare Più Più Ah guarda ancora Beh qua broc Con il nuovo gadget È veramente fortissimo Sì 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 Cioè Ha spianato la strada Roboi a pami insieme Praticamente Praticamente sì Eh Eh qui la situazione Adesso si fa un po' Brutta Perché comunque I tribe Continuano ad avere Il controllo del campo Innanzitutto Muniz qua ci prova Con l'aiuto di Ekaos Attenzione Bello qui il colpo di Emuniz Rimane con 44 di vita Ekaos con 14 Ok Se non essero fatto Questo rimontone In questa azione In particolare Sarebbe stato impossibile Recuperarla No 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 Beh qua Qua secondo me Stanno già Stanno già migliorando parecchio Rispetto a prima Sì rispetto a prima È possibile È possibile È vero che sia stato Solamente una cosa Anche magari una svista E basta Tutto lì Ci spererei Perché secondo me Se Se si mettono a giocare Potrebbero Potrebbero riprendere Potrebbero riprendere Non la riprendono Uno pari E quindi altre due partite I tribe potrebbero battere I clash Ragazzi Sarebbe clamoroso Una sola squadra europea Nelle semifinali Vabbè che Due si sono incontrate Quindi No vabbè Quello sì Due si sono incontrate Quello sì Però cavoli Clash Buttati fuori Le quarti I quarti finali Non me lo sarei mai Immaginato No no assolutamente Però ripeto Aspettiamo Aspettiamo Vedere Vediamo Non so La cam di Cori Sta laggando Da morire Tra l'altro Allora Ma quello Può essere Può essere Il collegamento Semplicemente che c'è Sì sì No vabbè Certo Ovvio Ovvio Allora Vediamo un pochettino Cosa riescono A combinare Adesso Nel frattempo Si vede Questo bellissimo Trofeo Centrale Ragazzi Bull Jackie Maxine Semino Spike Questa è una comp Molto particolare Questa è una comp Molto particolare Signor Gigi Eh sì Eh qua è caos Trappato A portarsi Quel bullone A casa Ma A casa Ma Niente Eh tutti quei bulloni Che avevano preso all'inizio L'hanno persi subito Hanno sprecato subito Tutti i gadget Praticamente Eh 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 Aia Qua arriva una kill Su Su Gil Abbastanza pesante Eh quella sulla Sulla Maxine Che Quasi Creano un bellissimo Controllo Possono fare una buona difesa Eh ma col doppio Cioè col Trovere Spike Come fai Sono danni grossi Sono danni grossi Mezza cassa Se la portano via Col primo robot Ragazzi Addirittura Chiudono in base I nemici Sì sì Eh beh sì certo Se hanno il doppio Tank Maxine Sì Col Semino Li riesce a chiudere Sì Ok Eh no no Hanno ripreso il controllo Hanno ripreso lì Il controllo Penso che Addirittura Sta partita Verrà chiusa Con due Robotoni Non servirà neanche Il terzo Probabilmente Eh sì Se non riescono A fare una buona difesa I Crash Diventa Veramente difficile Per loro Abbiamo questo Robottone Da 7 E adesso lo stanno difendendo Ok 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 Questo lo difendono Perché hanno tenuto Sul Semino Però adesso Eh ma ci sta Perché comunque Una scelta Fatta così Da parte dei Clash Sembra tanto Incentrata sulla difesa Certo Certo Sì chiaro Quindi Ti aspetti appunto Un team che difenda così Una comp che difenda così Ovvio che prima Si sono trovati Geek Andato giù Hanno dovuto resistere A un push Fatto 3 Oltretutto Con il Trower E vabbè Qua di nuovo Povero Muniz Come fa Cioè qua Non è neanche Una questione Lo sai però Forse è Clash Forse L'ultimo è Clash Forse l'ultimo è Clash No All'ultimo secondo Anche un pizzico Di fortuna Per i Trae Non si Non si Addirittura Sì perché All'ultimo secondo I Trae Hanno ripreso L'ultimo bullone Adesso Sono riusciti A portarlo in base Eh sì ragazzi Che sfiga Eee Niente raga Niente Niente Ok quindi abbiamo 2 a 1 E quindi il match point Dei Tribe Eh sì ragazzi Sicuramente Se in ogni caso Sono giù di tono Sono giù di tono Come team Non Evidentemente Non si stanno trovando Con le comp O in qualche Qualche cosa Non sta Non sta funzionando E Contro ogni pronostico A metà A metà Delle championship Sì addirittura Non si qualificavano Però le ultime championship Le hanno dominate Le ultime championship Hanno fatto 3 a 0 3 a 0 Se non sbaglio Cioè si stanno riprendendo I clash ultimamente Ora per l'ultimo Non si erano nemmeno qualificati Però si stanno riprendendo Le ho visti anche abbastanza bene In alcuni tornei europei Non lo so Lo Ma poi la cosa bella È che tipo Per esempio Gli Omen Che sarebbero i Trabberhead Non era neanche il team Più forte In In America Cioè loro si sono salvati Perché in America C'era sempre tutto Sto casino Dei vari team Un giorno giochi O quello Un giorno giochi O quell'altro Lo sono stati gli unici Che si sono sempre confermati Però c'erano altri team In America Secondo me anche Più forti Tra virgolette Qua tra l'altro C'è di nuovo Il buon surge Quindi qua Ragazzi Non è questione di niente Qua c'è la regola del Gigi Eh qua c'è la regola del Gigi Qua c'è la regola del Gigi Quindi insomma Mettetela un po' come volete Attenzione che È arrivato No L'investigatrice Del giorno Questi non sono i clash Questi sono gli ACMQ Vero È giusto C'hai ragione Giusto È giusto Quello non è Ghi E quello non è Chaos E quello non è immun Sono gli ACMQ Comunque Energetic Utilizzato dai Chaos Chissà se sarà il problema Di questa sconfitta Comunque ragazzi Guardate Il robottone 5 a 1 Ragazzi 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 Secondo me Vedrete Veramente Ah no aspetta Aspetta perché Chi vince questa Va contro Gli Inns Giusto Sì Cioè quindi noi vedremo Una semifinale Tra Tribe E Inns Che sono gli Omen Che Regà Finita le qualificazioni Della championship Cioè non lo so Quella semifinale Veramente È stranissima Il livello di quella semifinale È tranquillamente un livello Veramente mediocre Ragazzi Rispetto agli altri team Che c'erano E che potevano giocarsela E mi dispiace un sacco Perché un team davvero mediocre Arriverà in finale Posso dire che tanti team italiani Secondo me avrebbero potuto Superare quel livello Lo volevo dire io Però poi Dato che in Italia C'è un po' una situazione Un po' particolare Ho lasciato stare Anche perché Nell'ultima EVC Ogni team italiano C'è almeno Un ragazzo estero Diciamo C'è almeno un player estero Quindi secondo me Queste EVC A livello italiano Per quanto riguarda i giocatori Non parlo per i team Perché poi tra l'altro Melanzana Melanzanone Eh scusi Finalmente l'abbiamo E no secondo me Magari Quest'anno no Però magari il prossimo anno Potremmo vedere Una Sì magari Un team italiano Sì 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 Ma magari Un team italiano Dunque 3 a 0 netto Perché comunque Se il livello è questo Purtroppo Eh ma il problema è che In Europa Il livello non è questo È quello il problema È che tu per qualificarti qui Devi superare il livello europeo Che è ancora superiore a questo Molto superiore a questo Io regà A chi si è connesso solamente adesso Faccio una raccomandazione Quando avete Adesso godetevi la live Quando Abbiamo finito Andatevi a rivedere SK Contro Codemagic Che si è disputata Durante Durante questa Durante questo match Ok Durante questa live Andate a rivedere E capirete La differenza di livello Ragazzi Che ci sta È abissale Signor Gigi Mi dica Lei ma Sì No no Tutti i parametri Tutti i parametri Guarda anche i bulloni raccolti Sono più del doppio Le uccisioni Sono praticamente Il triplo Il danno fatto Che solitamente È quello che sta sempre Un po' più vicino È il doppio Sì Dominata Tra l'altro Ogni volta che arriva La voce della presentatrice Mi prende sempre un colpo Perché dico Chi è entrato Mi chiamata Che è successo Sono io Che mi sono messo a parlare Con un accento Un po' particolare Signor Gigi Esatto Esatto Un po' particolare E una voce anche femminile Secondo me È la doppiatrice di Piper Ah così Eccolo Ah È partito Un po' di Si parte lo zio Vabbè Ci sta Ci sta Eh sì 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 Perché lui sta nei drive Giusto Eh sì 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 Ci sta Vabbè ragazzi Allora Sicuramente Vabbè Allora Corey MVP Correttissimo Sì Corey MVP Correttissimo Sicuramente È quello Dei Red Che ha avuto Un attimino Un Si Poi era quello che c'era sempre Il mid Più o meno Nella maggior parte Le partite Quindi c'era sempre Il compito Quello un po' più Importante Se vogliamo Mi è dispiaciuto Vedere Comunque sia Le facce Dei giocatori Perché Eh quello è stato pesante Ragazzi aveva le lacrime Agli occhi Eh quello è stato pesante Sì 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 Lo vorrei sottolineare Questo Che i giocatori di live Avevano le lacrime Agli occhi Quindi insomma Sì sì Ci tenevano Ci tenevano Quindi a prescindere Da Quello sì Quello sì Quindi a questo punto Domani andremo a vedere SK PSG E poi Ins Contro I tribe A questo punto Eh sì Ins tribe Eh sì 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 Pensa andremo a vedere Prima PSG SK Vi ricordo ragazzi Che domani Sul canale di Grax Saranno giocate Queste Queste finali Ecco come vedete SK PSG Tribe Red E inse E poi ovviamente La finale Per chi vince le due partite Ricordiamo Sarimelive dalle 10 Sempre sul canale di Grax Appunto Mi raccomando ragazzuoli Non ve lo potete Non ve lo potete perdere Soprattutto perché Se avete visto Oggi Che comunque Erano 3 ore e 10 E siamo in live Se vi siete visti oggi Non vi potete perdere assolutamente Eh Le partite di domani Ovviamente raga Il grand final È ancora da decidere Perché chiaramente Le gioano Chi vince Quelle Quelle partite lì E Oh yes Sì Eh Lì sarà Sarà tanta roba Sì 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 Io Signor Gigi Ho letto Tanti 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 Ma già ieri Prima che cominciasse La giornata di oggi Che ti favo un SK Io dicevo SK Mamma mia Stiamo scherzando E invece Comincia a concretizzarsi Una possibilità Per loro Eh sì Dopo la vittoria Anche abbastanza Convincente di oggi Sicuramente Si Si proclamano Tra virgolette Anche a possibili Vincitori Ora bisognerà vedere Contro il Paris Saint Germain Che non sarà una partita facile Per niente E poi ovviamente Dovranno Confermarsi Anche direttamente In finale Qui c'è un po' Un recap Ragazzi Ecco appunto Stavamo parlando Proprio anche Del Dei PSG Che sono andati a vincere In maniera abbastanza Agevole Contro Contro i Nova In maniera abbastanza Facile Mentre per quanto riguarda Qui abbiamo visto I Code Magic Contro gli SK Che stavamo dicendo È stata un po' Anche Una sorpresa Vedere i Code Magic Uscire direttamente In Ai quarti Grandi SK Tra l'altro Molto molto bravi Partite davvero incredibili Si sono portati a casa Veramente un match Che veramente Suonava come una finale Eh Code Magic SK Eh si ragazzi Quel match lì Infatti Hai fatto bene a dire Che Appunto Che quella lì Poteva essere Una finale anticipata Perché insomma Ero d'accordo con te Sono d'accordo con te Pienamente Quella lì ragazzi Una partita da rivedere La live adesso Purtroppo è giunta al termine Ma Voi Magari andate a mangiare il pranzo Dopo Guardateva la live Signor Gigi Quel pezzo lì ragazzi Penso che È stato pazzesco Che sia alto livello E poi paragonatelo A qualsiasi altra Partita vista oggi Vedrete che quello lì È proprio un livello Stratosferico Molto molto alto No 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 Assolutamente Quello che ci aspettiamo Quando vediamo un evento In questo caldo Sì 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 no Quello livello è stato davvero Pazzesco 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 È un po' calato Ma vabbè Ce l'aspettavamo comunque Nelle partite successive Dove comunque Però abbiamo visto Delle partite Ovunque molto molto belle Per poi concludere Insomma Con La sconfitta Dei clash Contro La L'americana Tribe Che ricordiamo Erano gli omen Per quelli che non si ritrovano Sì che sono passati Può essere Tribe Esatto Molta gente L'ho letto Nei commenti Molta gente confusa Ma i tribe Non erano usciti Sì ragazzi I tribe europei Non si sono qualificati Mentre Gli omen Sì E si sono comprati I roster degli omen A quanto pare Non so poi dietro Che cosa c'è stato Comunque ragazzi Thanks for watching Ovviamente Lo diciamo anche noi a voi Grazie per averci seguito Ragazzi Speriamo di avervi fatto compagnia E soprattutto Di avervi fatto passare Una buona mattinata Vi ricordiamo Che l'appuntamento Come c'è scritto anche Tutto lì A destra In basso a destra E domani Dalle 10 In live Qui in Italia Sul canale di Grax Ovviamente Passate anche Dal Bonferre C'è il link In descrizione Per il mio canale Vi aspetto Mi raccomando E daie Mi raccomando Grazie per l'uomo È stato un piacere Signor Gigi Che stare insieme a lei È sempre Sempre veramente Molto bello La ringrazio Anche per me Anche per me Raga Ci vediamo direttamente domani Buona giornata Ciao Un saluto Ragazzi Ciao 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 Grazie.